Oggi noi faremo il secondo approfondimento in cui abbiamo coinvolto legandoci a un tema, quello del mostro e dell'iconografia del mostruoso, che è un tema a cavallo tra l'estetica, la filosofia politica, l'antropologia e che dal nostro punto di vista è un tentativo di approfondire un tema che permea di sé l'immaginario potentemente, in particolare negli ultimi due secoli, ma come vedremo anche da una delle relazioni, quella di Filippo Dell'Ucchese, ha una lunga profondità temporale che quantomeno arriva al mondo classico, ma poi vedremo di ampliare anche gli orizzonti, volendo almeno in chiave di possibilità. Un tema che ci serve per capire un po' come funzionano i grandi flussi dell'immaginario contemporaneo, senza far pubblicità, fra due giorni esce un film che si chiama Freaks Out e basta accendere una televisione per vedere la puntata dei Simpsons con Bart Simpson che ha un gemello mostro, questo per dire che mi è capitato proprio, non è un'ipotesi casuale, mi è capitato proprio accendendo un attimo la televisione, ieri pomeriggio per un secondo è uscito il mostro, il mostro ci accompagna, o così come faccia da mostro è il titolo di un libro che è uscito di recente, è una specie di, e poi ragioneremo anche su questo, di elemento costante del nostro paesaggio immaginario, immaginale, dei media, ma anche della tradizione letteraria, del cinema, che potentemente segnala, come vedremo anche poi della politica, della filosofia politica, ma anche proprio della politica praticata, che potentemente segnala sempre un problema. Allora noi cercheremo oggi, e vedete qui c'è il programma del seminario, di vedere un po' meglio che cos'è quel negativo che parla di un positivo che lo rimuove, che costantemente si accompagna come anomalia, anormalità alla nozione di mostro. Per farlo abbiamo chiesto ad alcuni studiosi che da tempo si occupano di questo tema, di affrontarlo da diversi punti di vista. Allora la prima relazione l'abbiamo chiesta a Maddalena Masso-Kutmiss, vi presento una volta questi studiosi, che ci parlerà proprio della nascita della teratologia, che non è nient'altro che la disciplina che studia appunto le entità mostruose, a cavallo di scienza e letteratura e anche a cavallo del 7-800, arrivando fino al nostro secolo, ma che vede un po' l'irruzione nella modernità più recente di questa figura. Maddalena Masso-Kutmiss insegna all'Università degli Studi di Milano, è anche drammaturga, cioè qualcuno che scrive dei testi per il teatro, e si è occupata variamente di mostri con un libro importante, anche perché è uscito la prima volta 30 anni fa, quindi che ha una lunga carriera di rilaborato e ripubblicato nel 2013, che si chiama Mostro, e poi ha più in generale pubblicato moltissimi lavori, sono storie, ripetemi tutta la carriera molto ricca di… però sempre connotata, direi, da due elementi che convergono in questa indagine sul mostro, quello dell'attenzione per le forme, la morfologia, e quello dell'attenzione per il lato scuro della percezione estetica, ha anche curato un libro che ha il disgusto nel titolo, è legato al cibo, che ha il disgusto, cioè tutti quei, diciamo, i nomi, il lato scuro, anche della tradizione estetica, sono per lei oggetto di studio da molto tempo, insieme alle forme, ha il problema di come le forme si metamorfosano, si modificano, e vedremo quanto questo tema è collegato, certamente ai vostri studi, parlo agli studenti, ai dottorandi che stanno assistendo, ma anche è collegato più in generale a queste indagini sul mostro. Un'ultima annotazione, è un specialista anche del più, diciamo, il più forse eterodosso, per quanto uno degli eponimi della tradizione luministica, cioè Denis Diderot, quindi è con molto piacere che le cedo subito la parola, abbiamo detto mezz'ora per uno gli interventi, li raggruppiamo, poi dopo passiamo a fare la discussione, i primi due facciamo una discussione, una pausa come da programma qui, e dopo ci saranno gli altri due, gli altri tre scusate, quindi darei ora la parola a Maddalena, grazie tanto di aver accettato l'invito, tolgo la mia condivisione, poi puoi mettere la tua, grazie ancora, e il titolo l'ho già dato, ma lo ripeto, la nascita della teratologia, cioè dello studio dei mostri, tra scienza e letteratura, eccoci, arrivo con la, tolgo un secondo, ecco puoi caricare, vado, prima di tutto, 30 minuti, benissimo, grazie, grazie per questo invito, sono felicissima di partecipare, adesso mi dovete dire se vedete, se ho condiviso, e la tua introduzione è perfetta, da ogni punto di vista, nel senso che mi consente subito di anticipare qualche cosa, nella tua introduzione sono emesse, anche nella tua introduzione generale, cioè al tema di oggi, sono emesse delle tematiche fondamentali, come negatività e positività, o come, più in riferimento ai miei studi, forme e metamorfosi, ecco, in riferimento alla prima tematica, a positività e negatività, vorrei anticipare quello che è il fulcro, poi, del pensiero degli autori che andrò ad esporre, è un po' il fulcro anche del pensiero, del ottocentesco, sulla mostruosità, fine settecentesco, è vero che si inizia anche con Dideroe, a parlare di queste tematiche, ma poi, direi che sfociano appunto, nella prima metà dell'Ottocento, con gli studi di, e adesso li vediamo, Etienne, Isidore, Jufras, Saint-Hilaire. Che cosa intendo per alternanza, o per lo meno addirittura commissione, tra negativo e positivo? Il fatto che il mostro, ed è questo il fulcro dell'indagine teratologica, che appunto i due autori portano avanti, il mostro diventa un modo, e non è paradossale, lo vedremo, di dimostrare la regolarità della natura. Cioè, dove la natura sembra fallire, e cioè nella mostruosità, è proprio lì che la natura segue invece il suo corso. E questo è veramente l'idea che regge la nascita della teratologia. Quindi il mostro, che nasce in teoria come, nasce a prima vista come negatività, diventa la conferma della positività, della regolarità, della conformità della natura. Questo è sicuramente il tema, il tema centrale e direi più interessante. Adesso ovviamente vado per gradi. Qui mostro, nel senso che espongo il volume mostro, che è vero che ha 30 anni di vita, è stato ripubblicato da Guerini dopo più di 20 anni, ed è stato anche tradotto in francese, di recente, nel 2018, credo. Invece, un altro testo che credo non si trovi più, anche perché la Nuova Italia ormai non pubblica più da tempo, è una selezione antologica dei testi di Geoffrey Santilleri, rimasta unica in Italia, perché nessuno ha più tradotto nient'altro, che si intitola Anatomia del mostruoso. Ecco, quindi questi sono i punti di riferimento testuali di quello che andrò ad esplicitare. Allora, la mia relazione è divisa in due parti, che però sono strettamente unite, si interconnettono tra loro, e cioè il mostro anatomico e il mostro letterario, perché Etienne e Geoffrey Santiller furono amati, studiati, inseguiti proprio nelle loro ricerche da due grandi letterati, e cioè da Hugo e Balzac. Ma procedo con ordine. Ovviamente, se io però dico Vittor Hugo, è ovvio che immediatamente ci vengono in mente determinati tipi di personaggi, con delle anomalie effettivamente fisiche, evidenti, quasi in modo tribulè, che è il nostro rigoletto, il rigoletto verdiano, che hanno delle connotazioni anatomiche che sicuramente hanno a che fare con la mostruosità. Voi mi sentite? Sì, sì, tu ti sentite. Se c'è qualcosa che non va, ti avviso. Perfetto, benissimo, io continuo. Bene, i nostri protagonisti sono, eccoli qua, Etienne, Geoffroy de Saint-Hilaire e Isidore, il figlio Isidore. Brevemente, Etienne nasce nel 72, muore nel 1844, professore di zoologia al Museo d'Istituto Natural di Parigi e lì organizza appunto l'avvenuta a Parigi di Cuvier. Perché è interessante questo aspetto? Perché i due avranno nel 32, nel 1832, uno scontro epocale veramente importantissimo al quale parteciperanno tutti i pensatori europei del tempo e perfino Goethe ne farà un resoconto propendendo per le teorie di Etienne Geoffroy de Saint-Hilaire. Perché? Perché le vedeva più simili alle sue anche se così non è esattamente. Qual è però la vera storia? La vera storia accademica è che sarà Cuvier ad avere la mail su Etienne e quindi un po' la storia degli studi di biologia in Francia e anche quindi lo studio delle mostruosità sarà poi dettato dai cuivieriani e non certo dai seguaci di Geoffroy. Cuvier aveva un peso accademico molto maggiore di quello di Geoffroy Saint-Hilaire. Ma nel momento, proprio negli anni 30, insomma, quando scoppia questa polemica e poi arriva all'apice nel 1932, Geoffroy sembrava avere la meglio, se non altro aveva il consenso dei grandi letterati e pensatori dell'epoca come appunto di Goethe, ma anche Balzac e Victor Hugo. Il figlio Gidor ha una figura istituzionale molto meno forte del padre, però dal punto di vista della telatologia è sicuramente uomo di grandissima importanza perché scrive un volume, che è la storia naturale delle mostruosità umane, in tre volumi molto molto corposi con addirittura un'importantissima serie di tavole alla fine, alcune delle immagini le vedremo, che fa storia. Non solo fa storia, è una cosa poco nota, tutto sommato, ma Isidore si occupa nella sua vita anche di studiare gli animali in cattività. e pubblica un testo che sarà letto da Darwin e Darwin confesserà che la teoria sua evoluzionistica deve a un debito molto forte nei confronti di Isidore e Rufus-Saint-Hilaire. Bene, ecco, allora di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando effettivamente di una anatomia mostruosa, documentatissima, raffinatissima dal punto di vista anche dell'iconologia e che Isidore sviluppa a partire dalle premesse paterne. Quindi un immaginario che diventa comunque immaginario, ma un immaginario scientifico, possiamo dire, su basi che vengono immediatamente fondate sull'aspetto dell'anatomia comparata, dell'embriologia e in generale anche della zoologia, al contrario dei famosissimi bestiali medievali o dei racconti di viaggio, dei resoconti di viaggio, dove apparivano esseri mostruosi, esseri deformi che però in natura non avevano alcun riscontro. Qua, a parte qualche stranezza, ne vedremo una, ma sono poche, le figure e le descrizioni delle mostruità sono tutte plausibili, plausibili, non sono tutte plausibili, fondate e meditate. Il mostro letterario. Il mostro letterario ha come protagonisti, a mio parere, oltre a Goethe, ma è un'altra storia, Hugo e Balzac. Hugo e Balzac che si recavano ad assistere alle lezioni di Etienne e Geoffrey Santiller, per motivi diversi, poi vedremo, perché entrambi arrivano alla concezione del mostruoso, ma attraverso strade diverse, ma entrambi affascinati dalla nascita della teratologia. E appunto, come vi dicevo prima, l'immediato personaggio che ci viene in mente è appunto Quasimodo, che poi è stato dato in tutti i modi diversi e possibili, ma che sicuramente Hugo struttura come un personaggio deforme. Deforme con una particolarità, ed è questa poi la teoria del grottesco di Vittor Hugo, che però vedremo brevemente, con una particolarità, cioè il fatto che la mostruosità esteriore, quindi questa metamorfosi del corpo, non corrisponde però a una interiorità altrettanto deforme, anzi in genere, e Hugo punta molto su questo contrasto, vi è una profonda e radicata differenza tra un'interiorità, una moralità elevata e un'esteriorità deforme. Sarà l'esatto opposto per Balzac. Entriamo quindi subito nel vivo e nell'ambito teratologico. Questa è una frase importantissima presa dai saggi di zoologia generale di Isidore, Geoffroy Santillet, nella quale appunto si inizia a comprendere come la posizione dei due filosofi della scienza nei confronti della mostosità non fosse un'esaltazione del mistero, ancora nell'Ottocento si pensava prima a un'influenza della mente della madre sulla possibilità di deformazione dell'embrione, ma poi si imputtava la mostruosità ancora a un intervento divino o a un intervento demoniaco, quindi la mostruosità era legata al meraviglioso, a tal punto che Geoffroy faticava a trovare embrioni o feti abortiti o partuiti mostruosi perché venivano buttati nella senna e diventava un elemento appunto da eliminare subito perché segnava la famiglia e le vicende della famiglia. E quindi Etienne racconta, narra di queste corse da una parte, anche il figlio Isidore quando scrive La vita del padre, di queste corse affannate da una parte all'altra dove veniva chiamato appunto per esaminare parti appunto, diciamo così, non convenzionali. Il lavoro che fa Etienne quindi esula, mette da parte, toglie, diciamo così, il meraviglioso e questo elemento invece di allontanare il letterato, cioè invece di allontanare Hugo e Balzac, li attira. Spetta quindi alla scienza moderna non più chinarsi sorprese, ammiratrice davanti ad apparenti meraviglie, ma di presentarne il mistero, ma di dimostrare l'armonia e la regolarità di tutte le forme. Il veloce è nato all'inizio ed è veramente l'elemento più importante, la teratologia non va a dimostrare la possibilità che la natura cambi il suo corso anche se in alcuni momenti isolati. Va a dimostrare che dove la natura sembra cambiare il suo corso invece conferma la regolarità di tutte le forme e questo è veramente fondamentale. Poi vedremo attraverso quali leggi si va a dimostrare tale regolarità. Quindi ma di dimostrare l'armonia e la regolarità di tutte le forme, anche anomale, degli esseri viventi e di crearsi da sé immagini sublimi dell'unità, invariabilità della maestosità divine, quella scopata delle leggi generali della natura, tutte unitarie, invariabili e maestose come la sua causa prima. E quindi Isidore continua dicendo ho cercato e credo di essere riuscito a dimostrare che l'insieme delle nostre conoscenze sulle anomalie e qua per la prima volta usa il termine teratologia, il termine teratologia lo usa Isidore per la prima volta, il padre continua a utilizzare una terminologia più settecentesca e quindi scienza delle forme, scusate, scienza delle mostruosità o filosofia delle mostruosità. Bene, la teratologia non può più essere considerata come una sezione dell'anatomia patologica. Ecco, perché la teratologia non è più una sezione dell'anatomia patologica? Perché se fosse una sezione dell'anatomia patologica sarebbe una variante, potremmo dire così, dell'anatomia patologica, cioè sarebbe un'anomalia rispetto a un'anatomia patologica che segue le leggi di natura. Se invece la si estrapola e la si considera disciplina autonoma, si può appunto constatare che anche nella teratologia, così come nell'anatomia patologica, così come nell'anatomia in generale, così come nella zoologia, nell'embreologia, eccetera, vivono le stesse leggi, le leggi di natura, che non sono mai alterate, che non vengono mai tradite. Che non si potrebbe neppure vedere in essa un semplice rano, eccolo qua, né della fisiologia, né dell'anatomia filosofica, né dell'embriogenesi, né della zoologia. Che essa ha con tutte queste scienze dei rapporti più o meno intimi senza poter essere confusa con nessuno di esse. E quindi, in conclusione, essa forma veramente una scienza distinta da tutte le altre. Qual è il fondamento di questa disciplina? Il fondamento di questa disciplina è l'unità di composizione organica. L'unità di composizione organica è qualcosa di complesso da capire, ma estremamente affascinante. Complesso da capire perché molti filosofi della scienza, prima e dopo Etienne Geoffroy, ad esempio Owen, ma prima si pensi soltanto alla famosissima scala degli esseri, eccetera, tentavano di visualizzare questa unità di composizione organica. Mentre Geoffroy si rifiuta di visualizzarla, cioè di dare una forma compiuta che Owen, per esempio, identificava come una specie di grande pesce senza branchie. Pensando piuttosto che questa unità di composizione organica fosse un ideale, un ideale non a cui aspirare, ma profondamente radicato nelle forme zoologiche e talmente radicato nelle forme zoologiche che tutte le forme zoologiche, pensando che tutte fossero zoologiche, non fosse altro che metamorfosi dell'unità di composizione organica. Detto molto, molto semplicemente, perché noi invece abbiamo bisogno di farci delle immagini, cosa sosteneva Geoffroy? Sosteneva che, sulla base di alcuni principi che adesso vi vado a innucleare, cioè il principio degli analoghi, il principio delle connessioni, il principio del bilanciamento, il principio di sua-prussois, attraverso questi principi potessimo individuare in tutte le forme viventi, attenzione, tutte per Geoffroy, talmente tutte che azzarda anche ad arrivare agli invertebrati e sarà qui il suo momento di scacco, diciamo così, e sarà qui la polemica, e nascerà da qui la polemica del 32 con Cuvier. Beh, tutti gli esseri viventi, tutti gli animali, tutte le forme animali sono forgiate a partire da un unico piano, in cui il principio degli analoghi e delle connessioni, e poi vediamo anche il bilanciamento del sua-prussois, il principio degli analoghi e delle connessioni non vengono mai traditi. Allora, faccio un esempio e lo faccio direttamente sulle forme mostruose e spero che questo sia chiaro. Poi eventualmente se non fosse chiaro nella discussione mi fate una domanda e lo ribadisco. Allora, che cosa sostengono Etienne e Isidoro e Fassantilea? Che negli esseri viventi, quindi negli animali, anche in quelli deformi, un organo può essere assente ma non può mai essere cambiato dalla sua posizione. Quindi possiamo avere un acefalo, ovviamente, quindi un individuo che non presenta la testa, ma non potremmo mai avere la testa dislocata rispetto alla sua posizione. Ad esempio, nei bestiari medievali, ma ancora nei racconti di viaggio settecenteschi, apparivano immagini di strani esseri, in genere trovati nel cuore dell'Africa, che avevano gli occhi e la bocca nella pancia e si sosteneva appunto di averli visti. Joufrois, quindi, con questo metodo, che è un metodo semplicissimo ma estremamente potente e innovativo, in un'altra parte, Joufrois scarta, toglie, elimina la possibilità di tutto ciò che ha a che fare appunto con forme meravigliose, con forme che non possono ritrovarsi in natura. Quindi, il principio degli analoghi e il principio delle connessioni ci dice proprio questo, che tutte le forme hanno a che fare con un piano unico di composizione, appunto un ideale, possiamo dire così, un ideale ma incarnato, un ideale che poi forma effettivamente le forme, per il quale ogni elemento può essere aggiunto, per esempio possiamo, o metamorfosato, possiamo avere due braccia al posto di due ali, va bene, possiamo quindi cambiare la funzione, ma la destinazione, la connessione di quei, delle braccia e delle ali rispetto a tutti gli altri organi che stanno intorno sono le stesse, sono le stesse e non possono cambiare. Il principio del bilanciamento poi amato da Goethe anche in senso letterario ci dirà che se un organo diventa grosso, si allarga, si espande, sarà a svantaggio degli altri organi vicini che quindi necessariamente diverranno più piccoli e ne soffriranno e il principio di sua pursua anche questo ornato da Goethe è il principio dell'attrazione del simile. Il principio dell'attrazione del simile che è un principio romantico, tanto è vero che Joffat poi tenterà, Etienne Joffat tenterà di a partire dal principio di sua pursua di dimostrare la connessione o interconnessione tra macrocosmo e microcosmo fondendo un po' teorie newtoniane e principio di sua pursua. Quindi i mostri in sostanza seguono le leggi di natura. Così come si forma un essere normale viene formato e si dà inizio a un essere deforme che tuttavia poi appunto segue un corso leggermente diverso ma non tradendo le leggi di natura semplicemente un corso diverso dettato dal caso come si formano infatti gli esseri anomali e le mostrosità si formano a partire da uno scarto che è un corpo sul ventre della madre che è un accidente che modifica per un attimo il corso delle leggi di natura che però come un fiume deviato per un attimo riprendono nel loro andamento naturale e quindi una mostrosità viene modificata soltanto in funzione del fatto che però assume i caratteri di una specie più bassa diciamo così di grado seguendo la scala degli esseri nella evoluzione appunto degli esseri della gradazione degli esseri in questo caso l'ontogenesi ovviamente segue la filogenesi mi fermo su Joffat passo brevemente a Hugo e Balzac perché mi sono soffermata su questa immagine perché vi ho detto che sono tutte plausibili le immagini che compaiono nelle tavole di Iridogio Fra Santillè tranne questa non perché non sia plausibile questa segue ovviamente il principio di sua pursua guardate come il principio di sua pursua cioè dell'attrazione del simile di parti simili che si attraggono viene spiegato ma d'altra parte è anatomicamente impossibile che due fetti siano così agganciati e riescano a stare nel ventre materno arriviamo quindi al mostro in letteratura Balzac cosa fa Balzac Balzac nell'avant propos della Comédie Humaine di fatto riprende il principio del piano unico di composizione scrive non è che un animale il creatore non si è servito che di un sole unico modello per tutti gli esseri organizzati l'anitale è un principio che assume la sua forma esteriore o per parlare più esattamente i tratti differenziati della sua forma negli ambienti in cui è chiamato a svilupparsi le specie geologiche derivano da queste differenze quindi come vede la mostruosità Balzac come un salto di specie quindi non è tanto la mostruosità anatomica che gli interessa quando un non adattamento diciamo così a uno status quo che è rappresentato appunto da questo animale unico dall'unità di composizione organica e da tutte le specie che da lì poi vengono formate per cui chiudo la citazione le differenze tra un soldato un operaio un amministratore un avvocato un uzzioso uno scienziato uno stistato un commerciante un marinario un poeta eccetera sono benché più difficili da accogliersi considerevoli quanto a quelle che contraddistinguono il lupo e il leone l'asino il corvo lo squale il vitello marino eccetera sono dunque esistite ed esisteranno sempre delle specie sociali come vi sono delle specie zoologiche certo è un principio piuttosto conservatore però che poi nei suoi romanzi ha effettivamente la possibilità di segnalare e di descrivere mostruosità sociali e morali che formano i grandi personaggi che descrive non mi fermo su queste teorie fisionomiche frenologiche perché ne parlo poi con Hugo e invece arrivo al eccolo qua ne parlo qua in sostanza le teorie di Geoffroy hanno due esiti assolutamente diversi nelle teorie di Hugo e nelle teorie di Balzac in Balzac appunto anche attraverso le teorie frenologiche di Gala Lavater eccetera di cui la seguace ci sarà una profonda corrispondenza tra interiorità ed esteriorità del personaggio quindi un'unità di composizione organica che possiamo dire informa l'esterno e l'interno Balzac scrive una famosissima teoria della demarsia della teoria della camminata dove dice che un individuo lo si riconosce ovviamente per il suo linguaggio corporale per la sua camminata e per qualsiasi cosa che lo contraddistingua nel piccolo e nel grande quando Balzac deve descrivere un personaggio entra nella sua stanza e inizia a dirci come sono posizionati gli oggetti come è arredata la stanza come si comporta come cammina come si muove perché appunto esiste questa profonda corrispondenza al contrario Hugo dirà che invece esiste una discrepanza profondissima tra interiorità ed esteriorità che tutto è in antitesi arrivando alla famosa teoria del grottesco poi se abbiamo tempo vi parlerò della guidana magari nella discussione che è un manualetto uno scritterello di Balzac molto simpatico in cui mette in ridicolo in modo grottesco proprio la teoria di Etienne Jofras Santillère nella famosa disputa con Cuvier arrivo quindi a tre minuti dici sì sì chiudo con con Hugo arrivo quindi a Hugo il quale afferma appunto che di sono che la letteratura possiamo dire così non fallisce mai non finisce mai perché nessuno viene mai superato in letteratura mentre così non accade nella scienza gli scienziati vengono di volta in volta superati questo accade per tutti tralasciate vedete in fondo Jofras Santillère questo significa che per Hugo Jofras Santillère è un punto di riferimento un punto di riferimento assolutamente non eliminabile allora la teoria di Hugo è appunto quella per cui la differenza tra il mostro anatomico e la non-mossosità interiore si fa ancora più forte tanto è vero che poi empatizziamo particolarmente con questi personaggi mostruosi che ci sono particolarmente cari direi Quasimodo direi Gwynplaine che è l'uomo che ride forse meno Triboulé perché se noi andiamo a leggere il vero Triboulé che è nel Re si diverte beh è molto diverso dal Rigoletto Verdiamo che invece è tutto sommato un personaggio simpatico per certi versi non per tutti ma comunque un personaggio deforme esterialmente ma rimane un buon padre forse bene nell'originale di Hugo questo buon padre invece ha di nuovo dei risvolti risvolti di risvolti che appunto segnano il grottesco chiudo con questa citazione tratta tratta dal Cromwell della prestazione al Cromwell di Vittor Hugo dove appunto Hugo individua il fatto che nella natura tutto è in antitesi tutto è in antitesi tutto è duplice e non c'è uno scarto non c'è un OO ma un E per cui il mostruoso convive con il con il regolare e la natura è continuamente uno scarto e una convivenza di estremi totus in antitesi che cos'è la creazione bene e male gioia e lutto uomo donna ruggito e canzone aquila voltoio lampo e raggio ape calabrone montagna e vallata amore e odio testa e croce chiarezza deformità astro porco alto e basso la natura è l'eterno bifronte l'antitesi di Shakespeare è l'antitesi universale sempre e dovunque è l'ubibilità dell'antinomia la vita e la morte il freddo e il caldo il giusto e l'ingiusto l'angelo e il demone il cielo e la terra il fiore e la folgore la melodia e l'armonia lo spirito e la carne il grande il piccolo l'oceano l'invidia la schiuma e la bava l'uragano il silibilo gli io e il non io l'oggettivo e il soggettivo il prodigio il miracolo il tipo e il mostro prima di togliere questa antitesi dalla natura cominciate scusate cominciate a toglierle dalla natura grazie sono stata nei tempi credo benissimo grazie molte Maddalena anche per la chiarezza anticipo una richiesta che avrei dovuto farti prima credo che sarebbe molto utile per gli studenti poter studiare il tuo powerpoint quindi se mi dai la disponibilità glielo carico sicuramente nel virtuale loro possono vedere in dettaglio anche le citazioni che hai fatto eccetera benissimo grazie intanto poi è un'altra relazione come sai poi facciamo la discussione anche su questa benissimo un attimo che do la parola dunque avevo dimenticato prima di dunque dove è finito il programma chissà comunque adesso c'è la relazione di Filippo del Lucchese che parla della 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 dimensione teratologica nell'antico gli cedo il posto qui perché lui è in aula con me prima di farlo io ho dimenticato all'inizio di di ricordare Jacopo se vuoi dire qualcosa rapidamente anche tu che questo incontro è fatto in collaborazione con il collegio internazionale delle filosofie di Parigi per un programma che tu dirigi lì che si chiama direi tu se mi fa il piacere poi cedo il posto a Filippo e se tu hai sotto mano il suo il titolo preciso lo ricordi a chi ascolta io devo cedergli il posto qui sai che forse è meglio se uso il mio è meglio se uso il tuo allora sì esattamente come diceva Andrea questo fa parte in realtà diciamo formalmente è un seminario e in realtà fa parte di un ciclo breve ma intenso di due seminari il primo è questo il secondo sarà a dicembre e sarà dedicato invece a qualcosa di in parte molto diverso che la figura di un umanista Leon Battista Alberti però il titolo di quest'anno era l'umanista e il mostro perché come in parte capiremo penso questo pomeriggio norma e abnormalità classico e grottesco si si necessitano a vicenda per certi aspetti quindi questo passaggio appunto è in parte frutto di alcune circostanze che esulano dal contenuto però si rivela secondo me a fecondo perché appunto vedremo a dicembre per esempio nella figura del momus Albertiano c'è questa dimensione non mostruosa ma grottesca piccaresca che dà delle chiavi per rileggere anche il lavoro di architetto di teore di architettura di Alberti comunque lascio la parola a Filippo il quale scusatemi prendo anch'io la locandina perché non ce l'avevo aperta il quale poi ci dirà meglio lui io penso che non si possiamo anticipare che sarà a partire da novembre ordinario l'Università di Bologna e non a Brunel però formalmente credo grazie a Jacopo per avermi promosso sull'associato mi hai già promosso sul campo va bene ma va bene insomma comunque a diversi buoni scusate vado di fretta e ci presenta un intervento in realtà ecco Filippo lavora da molti anni sul mostruoso ha già pubblicato un libro sul mostro classico ne sta preparando un altro sul mostro politico credo nel 600 che non vedo l'ora di leggere il suo intervento si chiama un inizio di mostri è possibile ontologia e terapolitica volevo far osservare una cosa su cui magari torneremo in seguito che due dei cinque interventi fanno riferimento al concetto di inizio di storia comunque anche quello di Ubaldo Fatini forse questo potrà essere poi un punto per un piccolo dialogo grazie mille Filippo a te la parola grazie allora prendiamo il microfono se c'è un ritorno forse qui bisogna chiudere perfetto perfetto ma il mio più ma il mio più adesso parliamo via che dei percorso parlare in questo altro da lì percorso percorso perfetto lo sentite tutto tutto bene sì adesso ti sentiamo bene senza i calli finito perfetto dunque io come condivido il mio powerpoint così però non vedo il powerpoint come mai devi cliccare vedi questo qui tu non ce l'hai questo è il powerpoint no ma devi ecco adesso dovresti caricare e poi e ma non lo vediamo ancora devi caricarlo da da Teams ah allora questo vedi questo affare di Teams che sto evidenziando qui in alto a destra questo quella freccetta lì questo qui eh sì quella lì carichi io ti ho abilitato puoi puoi farlo come lo carico il carica clicca la freccetta non è quella la freccetta famiglia provo a cliccare quella questa chiude questa clicca e condividi lo schermo desktop clicca quello no ancora ecco ecco adesso c'è il tuo cosa puoi andare apri vedi che adesso si vede il tuo apri il tuo powerpoint perfetto adesso tutti si saranno fatte la riflessione il desktop di un filosofo me ne vado fiero ok comincio dunque per 30 minuti benissimo allora intanto non ti preoccupare beh intanto ringrazio chi mi ha invitato qui Andrea Jacopo sono molto molto contento di essere qui per una delle ultimissime cose che faccio da londinese prima di diventare bolognese dunque un inizio di mostri è possibile è il titolo è una citazione da Victoria Go e da miserabili Victoria Go dunque comincio in continuità con il l'intervento che mi ha preceduto e non mi occupo di storia e l'arte né di iconografia più modestamente di storia e la filosofia ma se c'è un tema che è interdisciplinare o multi o pluri disciplinare come volete è proprio questo che chiama l'approccio multidisciplinare è proprio il tema della mostruosità dunque partiamo io vorrei partire da un'ipotesi cioè che la mostruosità sia un qualcosa di singolare di singolare tutti voi conoscete l'aforisma notissimo del l'incipit dell'Anna Karenina di Tolstoi le famiglie felici si somigliano tutte sono quelle infelici che sono infelici ognuna a modo suo l'aforisma renduto celebre diversi film e testi naturalmente oltre alla fonte stessa dunque l'ipotesi potrebbe essere un po' questa trasportata nel nostro dominio cioè che i normali si assomigliano tutti ma che sono gli anormali o i mostruosi che lo sono ognuno a modo suo dunque un mostro come qualcosa di irriducibilmente singolare effettivamente se racconto una storia mi mette a raccontare una storia c'era una volta un uomo normale che arriva nella nostra città nel nostro villaggio eccetera eccetera beh non ho bisogno di aggiungere molto un uomo normale ma se invece racconto la storia dico c'è una volta un uomo mostruoso che arriva nel nostro villaggio beh immediatamente chiamo alla domanda che cos'ha di mostruoso fisicamente mostruoso moralmente mostruoso e così via in che modo in che forma allora questa è l'ipotesi da cui vorrei partire che come vedrete intendo respingere questa ipotesi intendo respingere almeno parzialmente cioè almeno sul piano politico in qualche modo vorrei respingere dunque parto però per fare questa cosa da un esempio singolare che più singolare non si può e cioè da un dipinto vediamo se riesco a metterlo che è questo allora un po' se si vede ecco perfetto ecco da questo dipinto che è un dipinto del 1631 di Giuseppe de Ribera noto come la Maddalena Ventura con il marito e il figlio o secondo un altro titolo come la donna barbuta la donna con la barba come leggiamo vedete al lato c'è una lapide con scritta la storia il quadro racconta la storia di questo prodigio di questo portento o miracolo nella didascalia è una tela singolare questa donna barbuta questa donna che sembra un uomo un uomo una tela singolare tra le più insolite benché non unica dell'epoca e della produzione di Ribera del suo autore cosa succede in questo dipinto che il vice re di Napoli volle volle immortalato su tela quando ha conosciuto questo esempio di prodigio questa donna con la barba con la sua famiglia l'ata è il figlio è come se nella mostruosità il pittore Ribera in questo caso potesse uscire un po' dai canoni usare espressioni sfumature posizioni ad esempio l'allattamento in piedi che è estremamente atitico che appunto che sono strane che non sarebbero proprie di altri generi o soggetti come se il mostruoso fosse una via maestra per cogliere veramente l'umanità singolare che è individuale di questi soggetti è un incontro appunto singolare intimo io direi fra noi e il soggetto di questo quadro intimo empatico se non addirittura simpatico a me fanno simpatia stanno così di fronte a noi in questa posa quasi sacrale quasi ieratica che ricorda la maternità della Vergine essendo ovviamente tutt'altro come a sottolineare l'intensità di questo momento sono esposti questa famiglia umile esposti quasi protetti da questa oscurità che è chiaramente caravaggesca con vedete appoggiato sopra la la stele qui in pietra il fuso e l'arcolaio del filo che questa donna usa per il suo lavoro simboli sia della femminilità il fuso e l'arcolaio ma anche appunto dell'attività manuale di lavoro che questa donna esercita nella vita questa esposizione così frontale di questi soggetti ci fa almeno sorgere il dubbio questo è perlomeno come guardo io il quadro il dubbio se siamo noi che guardiamo loro o loro che guardano noi come diceva come scriveva Montaigne nei suoi saggi quando giocava col suo gatto sono io che gioco con lui o è lui che gioca con me non lo so non ne sono sicuro questi individui ci guardano ci interrogano almeno tanto quanto noi guardiamo e interroghiamo loro diciamo che sono messi da Ribera su un piano di parità forse di immanenza addirittura non è possibile osservarli senza al tempo stesso esporsi a loro o a noi stessi attraverso di loro in un gioco che è quasi un rispecchiarsi nell'alterità boh al di là di queste sottigliezze di empatia verso l'alterità che possiamo provare noi oggi nella filosofia nella cultura occidentale prevalgono ben altre ben altri atteggiamenti atteggiamenti diversi più freddi più razionali di dominio di possesso di inferiorizzazione di delegittimazione di segregazione dell'alterità e della mostruosità rispecchiati peraltro dai due titoli che vi ho detto di questo quadro uno è la Maddalena Ventura con il marito e il figlio dunque c'è un individuo con un nome una famiglia e l'altro la donna barbuta che la riduce all'oggetto mostruoso che sono due titoli sotto cui questo quadro è conosciuto dunque negli studi che ho fatto sulla mostruosità che sto continuo a fare sulla mostruosità ho preso questo concetto questa idea il mostruoso come chiave di lettura dell'intera storia della filosofia perché secondo me è possibile farlo questo primo perché il mostro è presente presente in modo esplicito o in modo latente in tutti gli ambiti che ho esplorato l'estetica certamente ma non solo anche l'etica la metafisica la fisica naturalmente la filosofia della natura la filosofia politica e così via dunque presenza ricorrente più o meno implicita del mostro secondo elemento perché capire e spiegare il mostruoso mi è sembrato il compito della filosofia cioè il compito che la filosofia si è data attraverso le epoche compito palese o nascosto come se fosse necessario passare attraverso il mostruoso attraverso una teratologia per appunto per accedere per consolidare per stabilire una normalità una filosofia l'anomalia che fonda la normalità questo è naturalmente vero in modi diversi per diversi attori e per diverse epoche ma esiste studiando questi autori questi filosofi vediamo questa idea allora che cosa vediamo inoltre più concretamente scendiamo adesso un po' più nel concreto quello che emerge dai filosofi che se ne sono occupati è prima di tutto secondo me una grande grandissima difficoltà a se non una vera e propria impossibilità a definire il mostruoso a definirlo e tuttavia nella difficoltà anche in mancanza di criteri definitori a volte in certe epoche vediamo svilupparsi una vera e propria furia classificatoria una furia tassonomica che venga dal metafisico o dall'anatomista o dal teologo definire è prima di tutto il tentativo di domare come si doma una bestia di controllare di prevedere di spiegare ma soprattutto è il tentativo di esorcizzare il timore che la mostruosità evoca qui solo alcuni titoli a caso obsequence il prodigiorum liber 1508 ambroise paré demonstra e prodige 1573 aldrovandi mostrorum istoria 1642 tutti i tentativi di domare un po' questo concetto fino all'histoire generale particolare des anomalies di Giuffroy Santillè di cui la collega ci ha parlato nell'intervento precedente che inventa la vera e propria teratologia moderna di cui in tempo tutto sommato molto breve cioè alla fine del secolo XIX il nostro Taruffi già in Italia poteva fare una storia scrivendo una storia e la teratologia negli anni 80 del XIX secolo in ben otto volumi già a quest'epoca dunque una scienza nuova in qualche modo o rinnovata che immediatamente assume uno status notivo dunque diverse epoche diversi autori in una stessa epoca tentano di definirlo di controllarlo in modi molto diversi tutto questo ha una funzione indiretta ma molto interessante per noi perché ci aiuta a capire meglio quell'epoca o quell'autore quali sono le sue paure quali sono le sue ansie se volete è un po' come dire dimmi dimmi qual è il mostro che temi o che cerchi e ti dirò chi sei ti dirò o che ti affasci e ti dirò chi sei allora tuttavia adesso comincio a rovesciare l'ipotesi da cui sono partito chiedendomi se invece al di là della irriduscibile singolarità che rende estremamente difficile definire il mostro c'è invece qualcosa che lo caratterizza essenzialmente un po' al di là delle epoche se volete come concetto come idea dunque qualcosa che sta al di sotto di questa irriduscibile singolarità allora mi faccio aiutare dall'analisi linguistica fra le altre cose da un testo che trovo sempre estremamente utile che è il vocabolario delle istituzioni indoeuropee del benveniste del benveniste del 69 dunque benveniste nello studiare il vocabolario latino dei segni e dei presagi che cosa nota nota che accanto a questo termine unico che è il teras il greco per il mostro esiste tutta una pluralità di termini latini che sono quelli che vedete miraculum lomen eccetera eccetera che hanno dei significati molto molto diversi ognuno specifico e tecnico lomen per esempio viene dall'ittita dice benveniste che corrisponde all'idea del credere del considerare vero dunque il mostro come dichiarazione di verità abbiamo poi appunto il mostrum che viene da mostrare da moneo che non è da tradurre con appunto con mostrare perché c'è ostendo ma piuttosto da insegnare mostrum è ciò che insegna è ciò che prescrive dunque qualcosa che gli dei prescrivono insegnano agli uomini dando il mostro creando il mostro il portentum che è mostrare e poi lo stentum che è il termine che più mi interessa su cui voglio insistere un pochino perché lo stentum fra tutti questi termini possibili di nuovo che traducono più o meno l'unico termine greco che è il teras ha un senso particolare ha il senso di conserva lo stentum il valore di mostrare da obstendo cioè stare innanzi stendersi di fronte a noi di fronte agli occhi essere esposto il senso dell'essere teso dell'essere offerto e mostrato alla vista però che cosa c'è anche che ci viene da quella piccola particella OBS che sta all'inizio è che ha tra le altre anche funzione oppositiva di resistenza dunque c'è in questo termine lo stento è il significato per me più importante quello che vado un pochettino a cercare certo il senso dello star di fronte ma non solo come mostrato alla vista ma anche come un ostacolo il mostro che ci sta di fronte come un ostacolo forse anche come uno scenità potremmo dire con un etimo che è un po' più incerto il mostro è qualcosa che si mette nel mezzo qualcosa che ci sta davanti e che ci sbarra la strada in qualche modo che ci impedisce di procedere tranquillamente sul nostro cammino ma come si mette nel mezzo e in mezzo a cosa precisamente si mette nel mezzo e ostacola appunto la fondazione di una normalità di un sistema di norme di regole che intendono per appunto descrivere e prescrivere la realtà cioè ordinarla finalizzarla a un certo ordine dunque se ci pensate ecco perché ho scelto questa cosa di nuovo la Maddalena Ventura la Maddalena Ventura si mette nel mezzo ci ostacola la strada ci impedisce possiamo dire di passare oltre incuranti perché la Maddalena ostenta la diversità del mondo una diversità inaspettata sorprendente è essenziale in questo senso che il pittore l'ha voluta rappresentare così in modo iratico di fronte a noi come per appunto se ci parasse la strada allora vediamo adesso un esempio filosofico un pochettino più concreto di come il mostro ostacoli la sistematizzazione della realtà sia a livello descrittivo che normativo prendiamo la lettura di Aristotele adesso vado un pochettino più nel tecnico in particolare in diverse opere Aristotele si occupa della mostruosità nella fisica nelle parti degli animali soprattutto nella generazione degli animali l'intera cifra della filosofia aristotelica è quella di opporsi di contrastare da un lato l'idealismo di Platone e dall'altro il materialismo di Democrito Empedocle e altri pensatori della natura accusati di pensare l'uno attraverso le idee le forme in modo troppo astratto e gli altri basando tutto sulla materia di pensare troppo nel concreto troppo al concreto allora il mostro per Aristotele si inserisce si spiega all'interno della sua teoria delle cause e dell'impianto teleologico della natura per cui tutto in natura ha per Aristotele un fine o un telos la causa finale altrimenti detta ciò in vista di cui qualcosa viene prodotto porta il mostruoso a un nuovo livello nell'ambito della filosofia greca ne fa veramente un oggetto di studio e di senso ogni cosa per Aristotele deve essere considerata rispetto alla sua essenza sua essenza intesa non tanto non solo come ciò che essa è veramente ma per Aristotele come ciò che essa deve essere o dovrebbe essere Aristotele tenta per appunto di far collassare l'uno sull'altro queste due idee ciò che una cosa essenzialmente è e allo stesso tempo ciò che essa dovrebbe essere o deve essere secondo il fine che in natura le è stato assegnato il telos dunque il fine della cosa non è solo un motivo fra gli altri ma è veramente il collante la colla che tiene insieme l'intero impianto delle cause in Aristotele il fine è la vera e propria essenza che nel movimento che porta ogni cosa dalla potenza all'atto cioè all'esistenza rende qualcosa essenzialmente ciò che essa deve essere e dunque la compie compie questa cosa attenzione dice Aristotele nel modo migliore possibile nel modo migliore possibile allora questa precisazione che Aristotele aggiunge compie qualcosa nel modo migliore possibile è una precisazione di fondamentale importanza per il concetto della mostruosità perché perché in natura dice Aristotele a differenza che in altri domini le cose non vanno sempre anzi in realtà non vanno quasi mai come dovrebbero andare quasi mai esiste certo la perfezione in natura anzi la perfezione è proprio la guida delle cose di come le cose dovrebbero essere ma raramente o quasi mai esistono degli individui perfetti esiste la perfezione ma gli individui perfetti no inoltre la mostruosità è tenuta un po' ai margini di questo processo dei processi naturali di produzione ma non è eliminata completamente il che spinge a chiedersi se per Aristotele tutto in natura ha un fine ebbè e qual è il fine di un mostro che cos'è il fine di un mostro perché un mostro si crea qual è il suo fine qual è il suo telos dunque poiché tutto ha un fine Aristotele reinterpreta il caso anomalo e mostruoso come quel caso per cui appunto questo fine non è stato propriamente realizzato non è stato propriamente raggiunto c'è stata una specie di fallimento in qualche modo della natura e la ragione di questo fallimento è per Aristotele la complessità per appunto delle cause dei nessi causali che formano le cose e che fa sì ad esempio che la materia questo elemento sordo ottuso resiste alla sua informazione quando la materia resiste la forma fa fatica a plasmare la cosa e a realizzarla nel suo proprio fine nel suo proprio telos c'è un fallimento in questo senso Aristotele usa il verbo empodiso in greco che significa per appunto sbarro la strada impedisco mi metto di traverso mettersi di traverso il che rimanda al nostro ostento che si mette di traverso questa è l'origine del mostro è vero che la natura fa tutto in modo necessario per Aristotele necessariamente ma esistono per lui due tipi di necessità una prima è la necessità assoluta e una seconda è la necessità possiamo dire delle cose che il più delle volte nella più parte dei casi vanno come devono andare vanno in un certo modo il mostro biologico dunque si determina quando nel secondo tipo di necessità più delle volte il fine è impedito e la perfetta realizzazione della forma non avviene Aristotele fa diversi esempi di questi mostri ne scelgo uno che è estremamente rivelatorio della difficoltà che il mostruoso pone all'intero sistema aristotelico Aristotele dice nella copula per esempio tra maschio e femmina quando il principio maschile riesce a dominare quello femminile il che dovrebbe avvenire per lui secondo natura questa è la sua teoria dall'unione nasce un maschio e questo va bene quando invece il principio maschile non riesce a dominare il principio femminile nasce una femmina in questo senso la norma il telos è stato violato c'è stata una resistenza e per Aristotele la femmina è il mostro del maschio questa definizione è incredibile perché è incredibile e perché da questo esempio e da altri esempi si vede come il mostro mette in crisi l'intero sistema è rivelatore di che cosa questo 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 esempio che cosa sarebbe dal punto di vista aristotelico un mondo perfetto un mondo cioè in cui ogni fine sarebbe sempre assolutamente realizzato sarebbe un mondo in cui esistono solo maschi cioè un mondo che nella sua perfezione è completamente sterile identico a se stesso che si esaurirebbe nella propria identità nella propria perfezione e non ci sarebbe mondo la perfezione annullerebbe annichilerebbe il mondo nella sua propria perfezione nell'identità a se stesso senza mostruosità il mondo di aristotele sarebbe incomprensibile di nuovo di nuovo se riprendo questo concetto adesso di nuovo la maddalena ventura come mostro la donna come mostro dell'uomo o forse mostro perché uomo eppure donna allo stesso tempo in ogni caso anche la maddalena in questo bellissimo dipinto ha riprodotto la vita come ogni donna ha riprodotto la vita e dunque ha impedito fortunatamente la perfezione aristotelica del mondo che altrimenti avrebbe completamente distrutto possiamo dire il mondo nella sua perfezione dunque ancora quanto tempo? tre minuti ok allora salto ma qui è cambio di registro velocemente per toccare il contesto politico andare a una dimensione un pochettino più politica è qui che l'ipotesi della singolarità della mostruosità la nego un pochettino vorrei metterla un pochettino in tensione la mostruosità si collega nella modernità a diverse figure che sono spesso e volentieri figure del molteplice figure del molteplice dell'essere insieme il mostro è qualcosa di molteplice allora io ho preparato un paio di icone una famosissima che è questa che è il leviatano il frontespizio del grande testo politico di Thomas Hobbes il leviatano in cui come sapete gli individui divengono soggetti quando sono domati e composti nel corpo collettivo del sovrano diventano popolo e a lui obbediscono questo è un possiamo dire un tipo di di mostro che era la moltitudine quella che Hobbes chiamava la moltitudine che viene domato componendolo nella unità in unità del popolo del soggetto popolare a cui finalmente il sovrano può obbedire però mi interessa questo tema del molteplice perché non è solo esclusivamente utilizzato in questo senso già all'altezza del XVII secolo ci sono teorie che parlano invece di libera moltitudine senza bisogno di un sovrano che la unisca in questo senso in ogni caso visto che il resto è un po' sull'iconografico vi ho preparato un'altra slide che mostra un po' lo stesso concetto ma in modo completamente diverso questa qui siamo nel XX secolo siamo in Germania XX secolo negli anni 30 Helmut Herzfeld poi John Hartfield quando lascerà la Germania nazista è un dadaista è un comunista un grandissimo autore che inventa un pochettino la tecnica del collage non so se la inventa o la perfeziona comunque e che fra le varie copertine di questa importante rivista AIZ Arbeiter Illustrierte Zeitung rivista illustrata dei laboratori compone nell'ottobre 34 questa figura cui scrive sotto la idascalia si legge male tutti i pugni uniti mostriamo al fascismo la nostra forza uniti in un unico fronte questo che cos'è composto di corpi molteplici questo è un sovrano decapitato la testa del sovrano non esiste più il molteplice si auto-organizza possiamo dire si compone spontaneamente autonomamente in un soggetto la cui mostruosità questa volta è rivolta contro il potere non è domata dal potere ma è rivolta contro il grande molo nazifascista che di lì a poco purtroppo conquisterà il potere dunque quando ci spostiamo sul piano politico vediamo che esiste si continua a esistere il mostro singolare esempio la figura del tiranno tiranno che darà poi il vampiro la letteratura ma esiste anche il mostro molteplice la massa collettivo che darà se volete un tipo diverso di mostruosità che è lo zombie poi nell'immaginario del ventesimo secolo dunque da respingere almeno in parte quell'ipotesi iniziale di cui parlavo cioè che il mostro sia irriducibilmente singolare non è vero ci sono figure di mostruosità la cui essenza è esattamente quella di essere insieme l'essere insieme in modo immanente senza il controllo del sovrano è un'ipotesi mostruosa è già dire il mostruoso è un mettersi di traverso è un ostacolare quella normalità Hobbes lo vede come un pericolo da domare eccolo qua Hartsfeld lo vede invece come una potenzialità di resistere al fascismo dunque mi fermo qui per abbozzare un'ultimissima tesi quello che mi sembra interessante soprattutto spaziando così fra l'antico e il moderno è quella di non di approdare a una definizione del mostruoso ma forse il suo contrario piuttosto approdare a una non definizione che non è però che non intendo però come una mancanza di definizione ma come il suo contrario definire sempre di nuovo dal latino implica l'idea del limitare del circoscrivere il finire il finire di definire è anche un terminare è un risolvere un porre fine a un problema risolvere un problema circoscrivere in questo senso il contrario di definito non sarebbe indefinito secondo me ma sarebbe per appunto mostruoso e è questo un po' il concetto che io vado a cercare mostruoso che scivola via dalla gabbia definitoria in modo autonomo indipendente e che dunque mette in crisi la normalità mi siamo qui scusate per i due minuti di grazie a te dunque come vedete abbiamo acquisito anche questa dimensione che è presente nel fenomeno del mostro fin dall'inizio cioè la sua ambivalenza l'essere del mostro costruito non solo come quindi il negativo ma anche come qualcosa che può contenere delle potenzialità affermative prima non ho detto di di Filippo che insegna la Brunella Universiti come ha chiarito Jacopo sta per trasferirsi a Bologna come filosofo della politica come vedete per la sua indagine molto pertinente anche a campi pluridisciplinari come quelli che ci riguardano più da vicino e ha pubblicato nel 19 questo importante libro Monsters in Thought Philosophy of Otherness in Ancient Thought cioè sui mostri nel pensiero antico come figura dell'alterità l'alterità appunto che può avere questi due risvolti negativo positivo che lui ha per brevità esemplificato nella conclusione anche in due immagini del corpo sovrano e del corpo diciamo acefalo adesso abbiamo circa 20 minuti di tempo per discutere poi facciamo una prima pausa chiederei intanto a tutti studenti compresi anzi in primi fra loro proprio per i chiarimenti eventuali rispetto alle cose che sono state dette qui abbiamo dato un background ampio sia sulla tarda modernità che sul pensiero antico per capire di cosa parliamo quando parliamo di mostri nella seconda parte della nostra conversazione seminario approfondiremo di più la dimensione della contemporaneità quindi verremo anche a cose però senza avere questa profondità diventa difficile capire di cosa si parla quindi io chiederei se qualcuno ha domande di farle subito ci mettiamo basta alzare la mano io la vedo e do la parola la manina è virtuale o in aula basta che me lo diciate Jacopo ha alzato la mano non va forse questo dialogo che spero però essere appunto poi aperto e ampliato dagli studenti mi domandavo allora se ho capito bene nella parte finale Filippo delinea una distinzione che che è fondamentale cioè il mostro non come l'indefinito il mal definito ma come una categoria se capisco bene il tentativo che prescinde dal concetto stesso di definizione mi domanda visto che questo non è assolutamente il progetto di Santillera anzi direi che è proprio il contrario il suo quello di integrarlo di integrare il mal definito in una sorta di regolarità mi domandavo se gli artisti in particolare i letterati volente o nolente forzano un po' questo tipo di integrazione del mostruoso nell'uno nel regolare se magari contro la loro stessa volontà può capitare in arte in letteratura ci siano delle circostanze in cui emerga una tensione tra come dire il discorso più accademico di Santillera e le spinte creative di uno scrittore quindi una domanda per Maddalena grazie grazie mi permette anche di estendere un po' il discorso su Hugo e Balzac ma in generale anche sull'arte mostro integrazione come integrato o non integrato è una domanda complessa allora il mostro è per l'artista spessissimo oggetto di meraviglia e quindi un elemento che per noi che ci occupiamo di estetica va a incrociare le categorie del grottesco da un lato e del sublime dall'altro sublime anche come piacere del dispiacere il mostro sta un po' dentro questo tipo di categoria il grottesco appunto come contraddizione esplicita dei contrari che però convivono insieme e sublime come appunto piacere e dispiacere insieme quindi per un verso il mostro può essere integrato può essere integrato in un universo dove appunto il grottesco è principio compositivo come per Vittor Hugo e quindi convivenza dei contrari o dove il sublime diventa non intendo il sublime morale ma proprio il sublime come contrasto anche emotivo e quindi meraviglia o anche profonda meraviglia informano il reale in questo senso allora il mostro diventa momento integrante e anche generativo da un altro punto di vista però per i letterati il mostro continua a essere sebbene affascinati dalle teorie di Geoffroy Santillère continua a mantenere una sua valenza appunto legata alla meraviglia come qualcosa che non collima totalmente con il reale o perlomeno con qualcosa che emoziona più del reale e allora se il mostro è come per Balzac uno di noi in fondo è mostruoso per Balzac chiunque tenti di uscire dallo status quo cioè uscire da un ordine gerarchico standardizzato e per Hugo il mostro è tutto sommato l'eroe della della sua rappresentazione volevo farvi solo un esempio quando il triboulet cioè scusate le wasa musel si diverte non fu mai rappresentato in Francia non fu mai rappresentato in Francia per un semplice motivo per motivi anche legati alla censura molto forte ma anche perché il pubblico non lo accettava andava totalmente contro i dettami del melodrammatico pur investendoli in qualche modo cioè il mostro o perlomeno il gonzo è un po' come nelle nostre serie tv quel personaggio che è un po' ha delle caratteristiche fisiche diciamo così non è un adone ecco non è l'eroe quindi non ha delle caratteristiche fisiche particolari non è particolarmente intelligente però arriva al momento opportuno e fa la battuta quindi stempera l'elemento drammatico quindi introduce questo diversivo nell'elemento drammatico questo nelle caratteristiche tipiche del melodrama ora far diventare questo che era è tribulè il rigoletto non è altro che un gonzo di corte che quindi doveva avere appunto la funzione di entrare e far ridere quindi stornare o far diminuire la tensione farlo diventare invece il protagonista assoluto che rimane sul palco che detta legge che dirittura governa un re era veramente deflagrante voleva dire dare alla mostruosità un rilievo fuori da ogni possibilità proprio di fruizione il pubblico non era preparato tanto è vero che ci vorrà poi la versione verdiana che è molto più edoncorata molto più contenuta per dare a quest'opera un successo effettivo quindi il mostro rimane ancora meraviglioso e si fa fatica a reggerlo si fa fatica a reggerlo a mantenerlo a tenerne una visione e una contemplazione prolungata e forse come diceva Filippo Dell'Ucchese è anche la sua funzione cioè ha una funzione di scarto il mostro e grazie a Dio ce l'ha perché Goh e Balzac e Jufra Santillè dicevano che era il potente elemento vivificatore del reale altrimenti stiamo nella stasi quindi il mostro indica la trasformazione indica il cambiamento però in modo talmente forte talmente discordante a volte che appunto si fatica a reggerlo spero di aver risposto sono andata un po' in giro sì sì grazie c'era un'altra mano alzata che adesso non vedo più mi pare fosse Lorenzo Brunello se aveva una domanda la faccio sì salve noi come studenti e anche studiosi della della città magari questa questa riflessione sul mostro e sull'alterità potrebbe interessarci da un punto di vista appunto come si si costruiscono gli antiseggetti all'interno della città e appunto poi le retoriche escludenti e anno scorso abbiamo avuto modo di lavorare per un esame di storia della città contemporanea ad una riflessione sul appunto sul disciplinamento dello spazio pubblico però a partire dal dalla coppia dicotomica del degrado del decoro e di come il il degrado sia un po' l'antisoggetto urbano quindi il il concetto di alterità si recupera all'interno del dell'idea di degrado e di come il dego il il decoro sia l'unico insomma l'unico comportamento ammissibile all'interno dello spazio pubblico però in quanto tale dovrebbe proprio garantire un dei margini di di autonomia contro omologazione standardizzazione degli usi questa cosa qui forse è stato un po' anche intensificato dalla dalla restrizione della pandemia e soprattutto dalla dall'eredità cognitiva che la pandemia ha lasciato e il disciplinamento degli spazi soprattutto lo spazio pubblico in alcuni casi veramente ha portato a delle forme di eterogenesi dello spazio pubblico cioè che l'unica le uniche operazioni garantite sono veramente quelle di di consumo e comunque conformità ad usi ritiene che mi rivolgo a al professore che ci possa essere margine per costruire una contro una reazione rispetto appunto alla retorica della sicurezza o e eventualmente dove partire e come strutturarla io non vorrei bloccare Filippo ma chiederei se ci sono ne raccoglierei almeno due o tre di domande solo per evitare di tagliare fuori chi eventualmente ha intenzione di chiedere attualmente la riflessione sulla contemporaneità che lei ha brillantemente ripreso non è un'obiezione la mia dico a Brunello che ha fatto la domanda è la parte che poi su cui lavoreremo di più nella seconda parte del nostro discorso ma tutto quello che abbiamo detto va benissimo anche adesso poi c'è una domanda per Maddalena qui in chat che non so se l'ha vista se può spendere due parole in più sulla cretra Cuvier e Geoffroy questa è una domanda io ripeto se ci sono altre domande raccogliamole ora in modo da usare il tempo in modo più proporzionato io avrei una domanda da aggiungere alle altre sempre per Filippo a lui chiede in Aristotele c'è anche però la sfera dell'immaginazione la quale la mostruosità è un principio compositivo l'usare di tanti elementi la fantasia può utilizzare tanti elementi di esseri per esempio animali realmente esistenti e comporre un corpo come quello della chimera per intenderci che ha caratteristiche mortuose quindi in realtà diventa anche un principio compositivo la 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 mortuosità non è semplicemente un principio diciamo così la bizarria che sul piano teleologico comporta una mancata realizzazione peraltro non per contestare questa ricostruzione ma per integrarla invece a Maddalena farei una domanda rapidissima su un altro aspetto cioè a che forse è collegabile a quello che gli è stato richiesto di approfondire poco fa a proposito della cherezza io mi chiedevo se questa dimensione di cioè c'è un problema quella appunto che poi è stato ripreso anche nella domanda precedente nel problema della continuità o discontinuità diciamo così nella composizione organica il piano unico di composizione organica cioè siamo vorrei capire bene se la rottura si dà quando vi è meno l'unità di composizione oppure se in realtà come per esempio chiaramente nella nell'avant propos della comedy man che citava lei si dà una sorta di cioè la grande catena dell'essere lì c'è tutta c'è l'eredità neoclatonica c'è la reinterpretazione di Leibniz di questo concetto cioè io mi chiedevo se appunto il discrimine sia effettivamente la rottura o no della continuità della catena dell'essere oppure se questa si posiziona comunque dentro il ragionamento sulla genesi della mostruosità e come queste sono due domande ma non per chiudere la discussione di questa prima parte ci sono altri che vogliono porre domande se non c'è nessun altro comincerei a far rispondere prima Filippo poi Maddalena prego ok allora io cerco di rispondere sulla sulla città che non è propriamente il mio campo però mi sembra di capire se riassume la domanda è quella il problema che sarebbe il nostro problema di possiamo dire così un contruuso della città un contruuso e secondo me questo è certo non solo possibile ma anche necessario soprattutto oggi e nel clima in cui viviamo allora se è possibile io penso assolutamente di sì perché la città è quella realtà talmente sfuggente per appunto alla normazione per cui avviene un po' quello che Spinosa che è un autore su cui ho lavorato molto diceva del linguaggio tutti i tentativi che si possono fare di normare il linguaggio per esempio subordinando la ricchezza delle sacre scritture della Bibbia a un'unica interpretazione che è quella ortodossa sono destinate al fallimento perché il linguaggio è talmente ricco nello scambio che se ne dà orizzontale e immanente che questo tentativo di normarlo e ridurlo a uno all'uno è destinato al fallimento io credo si possa dire della città la stessa cosa e dove guardare tu mi chiedevi beh forse ecco perché il vecchio tema della dell'utopia è sempre è sempre d'attualità in realtà forse proprio al confronto fra il grande tema dell'utopia la città utopica ibi compresi gli aspetti architettonici dell'utopia e la città reale e storica e si può partire da questo sia appunto nello studio veramente della storia delle rivolte urbane delle esperienze urbane di controcultura sia in letteratura nella letteratura una tesi che io ho seguito molto interessante di una ragazza a Madrid che lavora in architettura Lucia Jalon ha un capitolo proprio su Victoria Hugo e sulla corte dei miracoli sulla corte dei miracoli come modello di controcultura per appunto da opporre alla rigidità lineare dell'utopia dunque sì non solo possibile ma anche necessario risponde anche a te su Aristotele in realtà non ho una risposta è vero sì esiste un uso creativo dell'immaginazione creativo e positivo dell'immaginazione e anche dell'immaginazione mostruosa come composizione di figure chimeriche io però mi sembra la mia è una lettura di Aristotele mi sembra che prevalga in lui questa necessità di tutto fondare sulla sua struttura teleologica dell'universo ivi comprese i campi dell'immaginazione io l'andre a cercare nei due testi fondamentali di Aristotele la retorica e la poetica che sono testi profondamente normativi di esclusione di inclusione dei canoni per cui si deve scrivere si può scrivere in un certo modo eccetera eccetera anche la modernità anche la prima modernità in cui il tema dell'immaginazione invece esplode dal rinascimento in avanti ci mette moltissimo a riconoscere un uso positivo affermativo dell'immaginazione e in particolare dell'immaginazione della mostruosità secondo me io addirittura vedrei il grande autore fondamentale del pensiero di un'immaginazione positiva in Denis Diderot in Denis Diderot che Maddalena ha menzionato e dunque molto molto tardi vedete rispetto a questi processi perché perfino in Spinosa e per tutto il XVII secolo lo stupore dell'immaginazione è un po' un nemico da combattere contro la superstizione e dunque la ragione deve un pochettino fare da argine sarà solo nel XVIII secolo è abbastanza tardo che questi autori invece come Diderot per appunto molti altri riusciranno a imporre una direzione ecco sulla positività dell'immaginazione Maddalena ecco mi sentite sì sì perfetto io ho l'immagine un po' bloccata però ho sentito tutto allora quante cose fantastiche potrei parlare per due giorni senza smettere scusate faccio un aggancio anche a Diderot perché Diderot è il mio autore e non ci sarebbe un Etienne Jofras Antillère senza un Diderot quindi nasce tutto proprio da lui nasce tutto da lui ed è la capacità di vedere i mostri come sviluppo appunto della natura escludendo la meraviglia quindi includendo all'interno della possibilità della ragione ma ha detto questo la Chiarelle la Chiarelle è un momento veramente importantissimo della storia della cultura europea la Chiarelle ripeto partecipa a Goethe dando ragione a Jofras qual era il contendere? il contendere era questo poi ho detto che Balzac la ironizza su questa Chiarelle scrivendo questa guidana in cui ecco potrei partire dall'ironia balzacchiana in cui un oscuro filosofo della scienza propone alla Cadenide Sions un caso particolare un caso di un animale che non è né un asino né una zebra e cosa si fa quindi siccome stravolge l'ordine zoologico non è appunto né un animale né una zebra né un cavallo né un asino non si capisce che cosa di ammilesia quindi è una mostruosità e allora iniziano a disputare e qui si vedono in luce le due posizioni di Piuvier e di Geoffrey Santillet e vince la disputa Geoffrey Santillet dicendo che chi se ne importa se non è classificabile è comunque all'interno del piano unico di conformazione organica e quindi tanto mostro non è perché può essere riinserito in un contesto universale qual è il problema il problema vero però è che a un certo punto un oscuro filosofo della scienza dice di aver questa è la realtà non è la finzione di Balzac dice di poter dimostrare l'esistenza la consistenza anche del piano unico di conformazione organica negli invertebrati in particolare nei cefalopodi sostenendo che un cefalopode segue il piano unico di conformazione organica quindi i principi di connessione analogia bilanciamento e sua pursua vengono mantenuti perché se noi prendiamo il cefalopode e lo svolgiamo di fatto lo svolgiamo lo separiamo e lo svolgiamo non è altro che un individuo come un vertebrato cioè nello specifico un uomo che sta facendo il ponte ora era ben difficile da dimostrare questa cosa ovvio che andava a favore di Geoffrey Saint-Hilaire affermando che il piano unico di conformazione organica poteva essere applicato a tutti gli individui compresi gli invertebrati ma era anche vero che Cuvier aveva irradiati per esempio dalla sua parte come mostrare il piano unico di conformazione organica nei radiati era ben complicato questo nello specifico e da lì nasce la grande disputa ma la grande disputa poi andava sui grandi sistemi e questo è più interessante e cioè da un lato una visione fissista e creazionista come quella di Cuvier per cui le mostruosità anche le mostruosità del passato erano semplicemente il frutto di un'altra creazione e noi siamo il frutto di una nuova creazione quindi si andavano a scoprire in quel periodo veramente esseri mostruosi come i primi resti di dinosauro che non si sapeva come giustificare e catalogare e dall'altro invece una visione trasformista e tutt'altro che fissista e creazionista di Geoffroy Stantiller per cui la natura tutto sommato si fa potente trasformatrice metamorfica proprio grazie al mostruoso questa idea di un mostruoso metamorfico e potente è la stessa che ha Hugo quando nella prefazione al Cromwell e anche nel volume su Shakespeare afferma la natura nasce mostro e quando dice la natura nasce mostro si rifà proprio ai primi elementi di dinosauro di animale preistorico che venivano trovati e animali stravaganti per lui come la giraffa o altri di questo tipo cioè la natura lo sviluppo della natura il segno della natura è proprio dato dalla sua capacità di cambiarsi in metamorfosi e quindi di trasformarsi vengo alla domanda invece della rottura o non rottura con l'unità del piano nel momento in cui si ha il mostro allora se per Geoffroy il mostro non è mai rottura dall'unità del piano ma se mai allora in una possibile gradazione degli esseri una discesa diciamo così verso il basso se l'ontogenesi segue la filogenesi e se lo sviluppo del feto ripercorrere tutte le fasi dello sviluppo degli esseri nella gradazione degli esseri significa che ciò che è un'anomalia in una specie non lo è in un'altra quindi la mancanza o l'atrofia di un arto ci ricordano le forme di un'altra specie per esempio del pesce va bene e quindi semplicemente è un posizionarsi in modo diverso rispetto alla scala zoologica ecco questo posizionarsi in modo diverso rispetto alla scala zoologica che quindi non è una rottura con l'unità interessa proprio Balzac interessa Balzac che però ha un'idea molto più mistica della scala degli esseri per cui è vero che un'anomalia in una in una specie non lo è in un'altra ma è anche vero che la scala degli esseri per Balzac si espande oltre il regno animale perché perché è affascinato dai mistici del tempo e va verso le sfere angeliche per cui non so romanzi come Serafitus e Serafita proprio ci ricordano come l'uomo sia quell'ultimo gradino prima di una sfera angelica e quell'ultimo gradino che vestendo e possiamo dire altri panni e soprattutto facendo soltanto un gradino in più può addirittura arrivare e assurgere a qualcosa che adesso non immaginiamo ma che in un futuro potrà essere e cioè qualcosa di angelicato cioè c'è una progressione una spinta verso il rinnovamento delle specie spinta e progressione che è data proprio dall'anomalia e dalla mostruosità benissimo grazie allora io a questo punto farei se ci sono altre domande posso dare subito la parola per una breve domanda altrimenti farei una pausa di un quarto d'ora in modo da poter riprendere un po' riposati nella mente a continuare il nostro seminario con i contributi successivi così grazie a tutti ci fermiamo un attimo 15 minuti agli 011 cioè le 16.11 ci ritroviamo qui grazie a Maddalena che è qui lì qui tanto se potete restare ci fate un piacere io devo trasferirmi di sede e mi ricollego fra un po' nessun problema ci risentiamo dopo nella discussione finale che c'era modo anche di riprendere tutto quanto comunque grazie intanto soffro poco grazie andiamo a uscire apprezzabile che cosa ci dice che cosa mi dice e cosa penso ci possa dire caro nina Antonio in questo in questo suo contributo fa una distinzione tra diciamo il mostro classico e una particolare figura di mostro che nel novecento progressivamente sembra sembra sfuggire a un destino di relativa improduttività da un punto di vista materiale da un punto di vista concreto è ovvio qui il richiamo da parte di Caronia soprattutto alla figura del del cyborg che non è da considerare come molti fanno un ferro vecchio ma è qualche cosa di più e che comunque nel secolo passato ha rappresentato una figura del nostro immaginario dell'immaginario diciamo così contemporaneo che è stata in grado di segnalare un processo reale di trasformazione un mutamento in che cosa? Nel rapporto tra l'essere umano e la tecnologia cioè un mutamento per cui questo vale la pena ripeterlo anche in maniera un po' forse troppo scolastica un mutamento per cui la tecnologia da protesi riconoscibile come tale e separata dall'essere umano si fa parte del corpo dell'essere umano e contemporaneamente diciamo molto più di prima si fa parte la tecnologia del nostro paesaggio sociale ecco quindi già dicendo questo Caronia ma altri 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 studiosi che si sono mossi in sintonia con lui tra cui il sottoscritto ha visto che il cyborg il mostro diciamo contemporaneo questa particolare figurazione mostruosa che vale nel nostro presente il cyborg funziona indubbiamente secondo meccanismi che sono diversi dal mostro diciamo tra virgolette naturalistico di qualsiasi di qualsiasi tipo qui vi leggo proprio una parte del contributo di Caronia è vero che questo nel cyborg sopravvivono atteggiamenti del tipo ci sono cose che l'uomo non dovrebbe sapere no che è quello ad esempio che che Mary Shelley mette alla base del suo Frankenstein no ma queste 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 questi atteggiamenti queste sopravvivenze sono tali appunto in riferimento a immaginari immaginari precedenti no perché appunto ripetiamolo nella prospettiva di Caronia una prospettiva insomma ormai considerata veramente significativa e condivisa da 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 molti il il la logica insomma immanente al cyborg è una logica diversa il cyborg qui veramente leggo è un mostro mettiamoci sempre le virgolette da capitalismo maturo ed è in questo senso in una qualche maniera un orizzonte ineluttabile dell'umanità e quindi perde il cyborg il suo carattere mostruoso ogni giorno che passa le modalità con cui esso segnala i possibili processi di alterità no che è una indicazione individuazione della funzione classica naturale insomma sempre tra virgolette del mostro le modalità con cui il mostro il cyborg segnala i possibili processi di alterità sono quindi opposte a quelle del mostro classico e del mostro naturalistico quali sono queste modalità e qui c'è un rinvio siamo alla fine degli anni 90 un rinvio che oggi può apparire scontato allora non lo era ovviamente c'è un rinvio al manifesto cyborg no della harway e appunto nella visione di quest'ultima scrive ancora caronia arrivo in fondo alla citazione queste modalità sono come sappiamo l'ibridazione tra i linguaggi l'ironia le straneità alle pretese di purezza la negazione di ogni mito dell'origine interno ai mutamenti postfordisti anzi esaltato da questi ultimi in base a quella che è la loro logica di articolazione il cyborg può addirittura segnalare finisce così caronia dei percorsi per sperimentare pratiche non omogenee ai nuovi circuiti del comando quindi elementi di un'alternativa radicata nei processi dell'oggi e non nostalgica dei miti di ieri ecco fin qui caronia quindi con una presa di posizione che io considero molto netta e molto chiara che ha che vedere con una lettura dei processi di trasformazione del soggetto di lavoro che per dirla un po' scherzosamente ma neanche troppo muovono nella direzione di una sua tra virgolette mostrificazione defigurazione adesso passo sulla base di questa di questa premessa al mio ragionamento che che in parte riprendo da 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 quel lavoro che che Andrea Andrea Borsari ha ricordato anche operando delle 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 selezioni che per me sono dolorose ma insomma il tempo è quello che è che cosa viene fuori allora di interessante e di rilevante da questa lettura del 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 mostro contemporaneo no di questo di questa figura che si avventura per riprendere una bella formula di Elfride Jelinek in luoghi pericolosi che si avventura in luoghi pericolosi che sono quelli no di una produzione che 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 è molto cambiata e sta cambiando radicalmente e dei suoi anche luoghi non semplicemente di ricaduta vale a dire i nostri i nostri i nostri spazi eh urbani no tra l'altro come è stato eh detto nella prima parte del 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 seminario eh che cosa eh mh mette eh in luce questo 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 tentativo eh di 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 caronia e mette in luce il il un modo di trattare il il mostro cyborg mettiamoci sempre tante virgolette come una possibile figura di libertà come una possibile figura di libertà eh eh comunque non semplicemente assegnata consegnata destinata no a universi di assoggettamento no di resa sua completamente pienamente e in maniera indefinita subalterna eh una figura di libertà in un'ottica dunque che mi fa tornare in mente eh ovviamente eh Deleuze non tanto quello su cui ho lavorato anche in relazione alle mh dinamiche di mostrificazione di defigurazione eh non so mh ad esempio nel Deleuze che legge l'opera pittorica di Francis Bacon non è tanto questo a cui voglio rinviare sarebbe importante farlo l'ho fatto e mi piacerebbe anche tornare a farlo ma quando mi torna in mente Deleuze mi torna ovviamente eh così eh in mente appunto eh il Deleuze di di differenza e ripetizione eh il grande testo delesiano del del sessantotto eh in cui mh abbiamo effettivamente un'idea di di dimostro diciamo così teoricamente non non eh banale perché indifferenza e ripetizione adesso qui non sto a citarvi le 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 pagine i luoghi insomma testuali anche perché sono passi abbastanza abbastanza noti abbastanza conosciuti in differenza e ripetizione eh Deleuze da una parte insiste sul motivo dell'indifferenza cioè sul motivo dell'abisso appunto indifferenziato eh sul nero niente sono tutte formulazioni dell'esiane su una sorta di animale scrive indeterminato in cui nel quale tutto è dissolto questo da una parte quindi insiste sul motivo dell'indifferenza dell'abisso appunto indifferenziato dall'altra parte eh indica di tutto questo un carattere diverso un carattere diverso raffigurato in che cosa raffigurato in una superficie ridivenuta calma in cui fluttuano determinazioni slegate no sono parole sempre di Deleuze però arrivo direttamente eh al testo perché voglio voglio leggervi eh due passi velocemente che sono fondamentali per entrare in una particolare ehm area in un particolare ambito di di lettura e di analisi della figura del mostro delle dinamiche eh della mostrificazione eh dice eh scrive Deleuze la differenza tra due cose è soltanto empirica mentre estrinseche sono le determinazioni corrispondenti se non che in luogo di una cosa che si distingue da un'altra noi questo è il punto delicato il punto complicato noi immaginiamo qualcosa immaginiamo qualcosa che si distingua eppure ciò da cui si distingue non si distingua da essa eh qui c'è l'esempio perché detto così è teoricamente troppo 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 complesso c'è c'è l'esempio notissimo no il lampo ad esempio si distingue dal cielo nero ma lo porta con sé deve portarlo con sé come se appunto il lampo no si distinguesse da ciò che non si distingue e ancora un altro passo eh piuttosto importante no eh dove Deleuze fa vedere come il fondo di cui qui si sta parlando eh sia in grado di risalire alla superficie senza però perdere se stesso vi ricordo no quella strana formulazione la superficie ridivenuta calma in cui fluttuano determinazioni slegate no ecco scrive Deleuze sempre in differenza e ripetizione c'è qualche cosa di crudele crudele quindi il rinvio per chi tra di voi ha più informazioni riferibili a Deleuze il rinvio è ovviamente a D'Artaud il rinvio in fondo è anche al libretto su SAD e Maso insomma ma lasciamo perdere i riferimenti scrive Deleuze c'è qualcosa di crudele e anche di mostruoso in questa lotta contro un avversario inafferrabile in cui appunto torniamo alla formulazione un pochino più complicata in cui lotta nella quale il distinto si oppone a qualche cosa che non può da esso distinguersi quindi è una lotta interminabile è una lotta senza fine e che continua questo distinto a coniugarsi a combinarsi con ciò che da esso si separa la differenza che cos'è la differenza il mostro è per dirla molto brutalmente molto velocemente ma insomma che cos'è qui la differenza continua Deleuze è questo stato della determinazione come distinzione unilaterale della differenza si deve dunque dire che la si fa oppure che si fa come nell'espressione fare la differenza questa differenza la determinazione e dopo tutto sempre la crudeltà ecco allora vediamo un po' di sciogliere questo ragionamento per arrivare poi infine alla raffigurazione se così posso dire paradossalmente del del mostro nella direzione propria nell'ottica di questo di questo ragionamento no e quindi si passa adesso i rinvii i rimandi li ho già fatti ovviamente qualcuno ci potrebbe trovare giustamente anche 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 si potrebbe tornare indietro anche a a Spinoza che sono i grandi i grandi autori Deleuzeani di Deleuze allora però vi ho ricordato Artaud e quindi è vero che in quello che vi ho letto affiora la sensibilità estrema no Artaudiana nel momento in cui la crudeltà appare identificabile con quel determinato che conserva il suo rapporto specifico decisivo con l'indeterminato e questo determinato che conserva il suo rapporto decisivo con l'indeterminato è appunto la differenza che prende corpo letteralmente nella figura del del mostro diciamo Caronia direbbe del cyborg il mostro equipaggiato tecnologicamente in maniera sempre sempre più sofisticata dicendo questo cioè facendo riferimento alla particolare sensibilità di 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 Artaud Deleuze ancora una volta sarebbe interessante qui apro una parentesi non voglio essere troppo confuso sarebbe interessante poi proiettare su queste pagine del 68 le lezioni fucoltiane no del del 75 sul sulla normale no sarebbe molto interessante io da qualche parte ho anche cercato minimamente di di sottolineare no questa 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 pista però sarebbe interessante lavorarci anche da noi in modo qui da noi in modo in modo in modo serio però insomma con questo rinvio chiusa parentesi con questo rinvio alla sensibilità estrema diciamo così di 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 che cosa fa Deleuze Deleuze si smarca dalla presa triste dalla presa triste di coloro che squalificano qualificano squalificano come colpa o peccato la differenza stessa quella differenza nella quale il fondo sale sempre e comunque dissolvendo la forma la sua pretesa di compiutezza di definizione data una volta per sempre il mostruoso dunque come principio come figura meglio di 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 libertà salto alcuni alcuni punti che avevo ripreso per 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 il seminario perché voglio rimanere sui testi senza chiacchierare troppo ritorno allora su 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 differenza di petizione per per dare 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 una definizione di mostro una definizione definizione tra virgolette di di mostro che può essere utile anche per proiezioni ulteriori più legate al nostro presente in realtà poi un presente che ha una storia alle spalle di di qualche decina di 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 anni però ragionando sempre sul mostruoso come figura di libertà che 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 mette tutto ciò che è considerato come principio in seconda battuta no come come principio divenuto come principio secondo anche la nostra stessa identità poi alla fine ragionando sul mostruoso come figura di libertà Deleuze scrive quando si esercita la determinazione cioè la differenza no sullo sfondo la differenza la determinazione non si limita qui a dare una forma a formare materie nella condizione delle categorie ritorniamo al passo precedente no qui scrive Deleuze qualcosa dal fondo risale alla superficie vi risale senza prendere forma insinuandosi anzi tra le forme vi ricordate no le determinazioni slegate per così dire quindi qui si ha una esistenza autonoma senza volto si ha una base senza forma senza forma il fondo nella misura in cui si trova ora la superficie è detto quando si trova la superficie è detto profondo vale a dire il profondo che cosa indica il senza fondo il senza fondo viceversa le forme si decompongono quando si riflettono no in tale fondo no ogni modellato su questo piano viene meno si decompone tutti i volti muoiono e sola sola sussiste la linea stratta come determinazione assolutamente adeguata all'indeterminato come lampo uguale alla notte acido uguale alla base distinzione adeguata all'oscurità intera qui conclude Deleuze ci sono i fatidici due punti tutto questo è il mostro tutto questo è il mostro determinazione assolutamente adeguata all'indeterminato lampo uguale alla notte acido uguale alla base distinzione adeguata all'oscurità intera il mostro quello che forse può fare il problema è la linea stratta è chiaro che poi all'inizio degli anni 80 quando Deleuze impatterà su Francis Bacon ecco che la linea ad astratta si farà qualcosa di differente di diverso molto più concreto e molto più materiale proprio a rappresentare a presentare i processi di defigurazione di mostrificazione della figura della figura pittorica in Francis Bacon ecco quindi che abbiamo a che fare con una scusate l'utilizzo del termine una particolare incisiva molto incisiva definizione di di mostro in Deleuze un altro passaggio poi mi fermo perché non voglio farla troppo lunga mi piacerebbe arrivare da Deleuze a parlare diciamo del mostro tecnoformo di come questo diciamo si concretizza trova una figurazione ripeto nelle particolari singolari alcune particolari singolari trasformazioni no proprio della figura del soggetto di lavoro oggi nel nostro presente però non è questo che mi interessa qui in sede semilariale restituire mi interessa un altro testo che molto tempo fa ho preso in considerazione che mi ha sempre fatto venire in mal di testa perché è un testo di una densità veramente straordinaria faccio riferimento a un altro testo sul mostro importante di Pierre Klosowski pubblicato nel 1936 in Assefal nel 1936 qui Klosowski compie un'operazione adesso io la semplifico la semplifico molto perché appunto ripeto anche a me fa problema per la sua densità fa un'operazione che però mi ha sempre colpito perché il suo autore di riferimento qui è Saad è il sadismo insomma diciamo su un piano più propriamente di concettualizzazione di elaborazione concettuale e proprio ragionando sull'opera complessiva di Saad Klosowski riflette sulle differenti modalità di una posizione di una condizione particolare che si dà nell'opera di Saad e questa condizione e posizione particolare è quella dell'attesa distruttiva che è un classico luogo insomma quasi un luogo comune partecipato e partecipabile dell'opera di Saad differenti modalità di tale attesa distruttiva che si traducono in Saad in operazioni mentali fortunatamente in operazioni mentali che hanno la funzione di presiedere poi a eventualmente eventualmente possibili pratiche di debosh sperimentali pratiche sperimentali di relativa perdita di sé di sano qualcun altro direbbe amico di Klosowski sano dispendio di sé ecco qui c'è un passo molto sintetico di Klosowski che però secondo me è abbastanza chiaro che vi riporto dove Klosowski dice la felicità fate sempre mente locale alle dinamiche di mostrificazione proprie della scrittura di Saad insomma che è un autore ancora oggi abbastanza letto abbastanza conosciuto dice scrive Klosowski in questo testo breve proprio sul mostro che è uno dei testi chiave della rinnovata comprensione attenzione e tentativo di comprensione originale della figura del mostro schiacciata su un secolo che si sa diverso differente dai secoli del passato dai secoli precedenti scrive qui Klosowski consistendo nell'opera sadiana la felicità non già nel godimento troppo semplice ma nel desiderio di rompere i freni i vincoli che si oppongono al desiderio in questo consiste la felicità nel desiderio di rompere i freni che si oppongono al desiderio allora non è nella presenza ma è nell'attesa degli oggetti assenti nell'attesa degli oggetti che sono appunto attesa allora assenti che si godrà di tali oggetti cioè che si godrà di tali oggetti distruggendone la presenza reale quindi riconducendoli alla loro condizione di assenza alla condizione di assenza se si vuole cercare di essere felici allora conseguenza di questo passaggio i personaggi di SAD quelli che tutti noi conosciamo insomma più o meno che cosa mettono in scena qual è la loro caratteristica principale sono personaggi che si disindividualizzano o perlomeno tendono a fare questo offendendo offendendo è proprio l'espressione di Klosowski la natura nel momento in cui appunto totalizzano immediatamente tutto quello che la natura stessa contiene in questo senso i personaggi di SAD pongono avendo rinnegato l'immortalità dell'anima pongono la loro candidatura alla mostruosità pongono la loro candidatura alla mostruosità è una lettura novecentesca però è una lettura diciamo estremamente stimolante del lavoro fuori misura di SAD di un lavoro fuori tempo e fuori luogo per definizione come quello di di un lavoro si adesso arrivo alla fine allora del passo poi mi fermo che cos'è che allora interessa qui interessa che l'attesa di questi personaggi attesa continuamente ribadita e ripetuta nel suo valore attraverso una distruzione una pratica di distruzione di ciò che si presenta e che mette in discussione la condizione dell'attesa la loro attesa l'attesa propria di questi personaggi li ricolloca in maniera paradossale nello stato di possesso di tutte le possibilità di sviluppo potenziale che si traduce dalla parte sempre di questi personaggi nel loro sentimento come sappiamo di potenza assolutamente non condizionata incondizionata allora per arrivare in fondo cosa suggerisce Klosowski da una parte suggerisce che l'immaginazione erotica e noi sappiamo essere essenziale e decisiva nella sua opera suggerisce che l'immaginazione erotica è fondamentale perché compensa la perdita dovuta alla presa di coscienza dell'io che in nient'altro consiste appunto se non nella resa impossibile del possibile perché la presa di coscienza dell'io nel momento in cui si arriva a questo liquida il possibile lo restituisce come qualche cosa di impossibile da qui la necessità dell'immaginazione scatenata sfrenata a livello erotico appunto per tentare di compensare la liquidazione delle possibilità della possibilità ecco se si considera però l'individuo chiudo veramente in perenne attesa come è quello raffigurato nell'opera di Saad si può allora anche indicare nell'immaginazione lo sforzo per evitare ciò che ci attende o che si attende no e per fare questo cioè questa 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 funzionale in questo senso dell'immaginazione che scopo ha ha lo scopo di consentire il ritorno nella condizione attemporale in quella condizione attemporale in cui il possesso di tutto il possibile esclude la possibilità dell'esperienza della perdita dell'esperienza della perdita in questo senso insomma no in Saad si ha una sorta di relativa apparente ma neanche troppo apparente mostrificazione no della 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 condizione dell'anima no che si miscela si combina si compone per lo meno sul piano dell'immaginazione con ciò che è più carne e più sangue e più corpo no e quando anima e corpo riescono a ricombinarsi nell'ottica appunto della ripresa no di possibilità di di molteplici di di esperienza ecco che questa singolare particolare di combinazione di composizione dell'anima e del corpo no assicura una salvezza sulla strada della mostrificazione vale a dire su quella strada che 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 elfride jelinek no ha rappresentato molto bene con con la formula che vi ho che vi ho che vi ho ricordato no l'avventura in nessun luogo ecco mi fermo qui scusate che ho lavorato troppo sugli appunti ma avevo bisogno di fare così grazie grazie Andrea grazie a tutti grazie un ballo se spedi il microfono se no ce l'eco sì sarebbe in realtà la densità del tuo intervento era e lo dico anche a nome degli studenti qui presenti che vedo era molto stretta sarei detto se riuscissimo dopo a sciogliere un po' di nodi in particolare per quanto riguarda Deleuze la identificazione del mostro con il con l'emerge della differenza che mantiene lo sfondo per quanto riguarda invece il ragionamento su Klosowski il testo il mostro di Klosowski sarebbe interessante anche lì capire meglio come questa abolizione del possibile compensatoria funziona così come e anticipo una domanda per dire che c'è un tema che tu hai lasciato sullo sfondo per motivi di economia di discorso che però varrebbe la pena approfondire sarebbe molto importante sarebbe molto importante ragionare ancora sulla le possibilità positive di libertà già nel testo di Caronia del mostro sono legate all'ibridazione tecnologica sarebbe interessante capire fino a che punto questa è qualcosa anche il libro in generale ha questa prospettiva ha questa prospettiva come sfondo e anche in alcuni momenti esplicitato anche sul piano politico sarebbe interessante dopo capire meglio come questa ibridazione risenta o no diciamo così di una sorta di ottimismo tecnologico legato ai primi passi del digitale come fenomeno di massa degli anni 90 e fino a che punto oggi sia ribadibile viste le mutate condizioni di questo processo questo lo dico per dare il senso che poi stiamo parlando di quelle cose anche molto concrete a chi ci ascolta i nostri studenti eccetera però per economia di discorso è meglio raggruppare le relazioni come dicevamo adesso c'è quella di passiamo a questo diciamo caso di analisi del mustro e del suo uso politico nel 77 in chiave di iconografia cioè di riproduzione concreta di immagini che derivano da questo studio che Jacopo che oltre che a promuovere insieme al college questo questo seminario è assedista di ricerca presso il nostro dipartimento ha diciamo questo studio più approfondito che ha fatto sull'opera di Pablo e Ciauren che abbiamo anche la fortuna di avere con noi a cui dopo daremo anche la parola così passerei per questa lettura del mostro politico più in generale di un concetto di mostro politico per esempio anche a discarico di una visione troppo schiacciata sulla contemporaneità o su un punto storico preciso di questa analisi per esempio quel parallelismo che Ubaldo suggeriva prima tra il corso degli assurdi anormali e la lettura di questi non più che di Deleuze del mostro politico è qualcosa che Jacopo ha ripreso nella sua analisi dell'opera di Ciauren e quindi cerchiamo di mantenere sempre questa molteplicità di visione su un fenomeno preciso ma anche sulla che abbiamo dato tutto il nostro pomeriggio sull'insieme del ragionamento sul mostro che stiamo cercando di fare quindi Jacopo prego anche tu mezz'ora ti tengo a segnare grazie Andrea dunque volevo condividere lo schermo devo abilitare un secondo fatto ok adesso vado sui tre punti giusto? no sulla di fianco abbandona come scusa? c'è una freccina di fianco ad abbandona ah scusa sì ok windows ok dovrebbe essere adesso dovreste vedere il mio schermo giusto? adesso sì ecco sì questo è il titolo come potete vedere però in realtà dovrò fare una riflessione un po' più ampia che parte da prima del 77 che ci porta verso il contemporaneo quindi diversamente dagli interventi che mi hanno preceduto vedrete tante tante immagini non tutto verrà spiegato nel dettaglio ma ci possiamo tornare ma e comunque forse non è così essenziale cerco invece più essenziale è capire un po' il ragionamento che voglio cercare di sviluppare attorno alla tematica del mostro e al ruolo importante che ha Echauren in questa sorta di narrazione allora io incomincio questa è un po' la trepartizione cronologica del mio intervento che è anche una trepartizione un po' concettuale adesso lo vediamo subito cioè gli anni 60 se volete i primi anni 70 il movimento del 77 e in particolare i mostri realizzati da Pablo Echauren e il mostro politico oggi allora dobbiamo partire dagli anni 50 e 60 per capire rapidamente come il diciamo la sinistra italiana ma non solo quella italiana il partito comunista il partito socialista i sindacati rappresentavano il proprio soggetto politico il proprio soggetto politico era essenzialmente uomo come potete vedere virtuoso muscoloso eroico virtuoso qui vedete per esempio una camicia bianca molto improbabile che un lavoratore dell'officina si indossi una camicia bianca ma poco importa quello che contava è naturalmente dare legittimità credibilità soprattutto rispettabilità a questi soggetti che procedono uniti verso il futuro qui vedete il blu che era il colore della democrazia cristiana che viene un po' come dire sfruttato proprio a favore dalla testa del partito comunista qui vedete che se c'era qualcosa di mostruoso questo è un post realizzato dalla democrazia cristiana per le elezioni del 48 era cioè se la classe operai veniva rappresentata come mostruosa era chiaramente per denigrarla qui vedete questo post veramente orribile in cui si dice anche la tua femminilità è affidata al tuo voto quindi l'elegante donna che voi sapete sono le prime elezioni che votano le donne in Italia che viene contrapposta alla donna barbuta di cui ci parlava o quasi cioè questa figura di militante comunista col pugno alzato che viene quasi rappresentata come una donna barbute è un caso ovviamente che torni a questo motivo ma è interessante ecco però io così non riesco ad andare avanti come mai scusate non ho il controllo del pdf perché non fa sta roba allora devo uscire un attimo iniziamo malissimo perché gli fai delle bestialità e gli sarà appunto ma perché perché non dovrei poter uscire allora perché e niente non come faccio a uscire devi chiuderlo e tornare sulla freccina cliccare la X e poi oh no ma dai perché la freccia devi cliccare la X adesso sembra di essere tornato sotto il mio controllo quindi facciamo finta di nulla allora mi concentro rapidamente su queste tre immagini che emergono non tanto dal movimento operario tradizionale o più che altro ufficiale ma da una da una sinistra che poi viene chiamata operaista che emerge negli anni 60 e che si oppone ai partiti politici della sinistra storica il petto comunista il petto socialista e a buona parte dei sindacati allora come vedete questa è un po' la mia tesi qui ci siamo siamo di fronte a una rappresentazione della classe operaia però diversamente da quella che vi ho illustrato poco fa che passa attraverso il mostruoso cioè non però per denigrare la classe operaia ma per darle come dire una funzione politica di negazione che è ovviamente qualcosa come dire di antitetico rispetto al progetto politico che vi ho mostrato prima attraverso l'immagine cioè non la virtuosità la responsabilità la dignità ma il mostruoso cioè una figura che proprio perché mostruosa è positiva o almeno viene rappresentata come una figura con cui identificarsi allora qui il titolo della vignetta è Il Drago e San Giorgio diversamente dall'iconografia tradizionale dove appunto generalmente si parla del San Giorgio e il Drago il riferimento è a delle opere di Paolo Cello che trovate a Firenze e a Londra e il Drago che cos'è? e beh il Drago è il Catorpiller sono i due operai che siedono sul Catorpiller che scacciano San Giorgio perché San Giorgio? perché San Giorgio è un po' la figura del del santo che rappresenta il bene il giusto la vittoria della verità sul mostro e in questo caso era una figura del Partito Socialista all'inizio del Novecento quindi il cacciare San Giorgio è cacciare come dire la sinistra istituzionale così per come si era rappresentata cioè una sorta di autosantificazione di di porsi come dire come il salvatore dell'umanità che uccide qui vedete il vabbè qui si chiama succhionismo ma comunque insomma la figura è quella del capitale il mostro qui è il negativo come capitale ecco questa sinistra come dire inverte la dialettica tra le due figure questo fa sempre parte della stessa di questa corrente politica la rivista è la stessa si chiama classe operaia e qui vedete di nuovo una figura di operaio che però è un essere volante e sono andata a vedere un po' negli archivi dell'artista che realizza questa immagine che è Mariotti un artista di Firenze che è morto da molto tempo però gli archivi sono pubblici sono museopeci e voi vedete che c'è tutta una riflessione iconografica sulla forma da dare a questo operaio che è una sorta di metamorfosi cioè l'operaio è uno scheletro qui l'operaio è un gatto selvaggio che fa riferimento agli scioperi a gatto selvaggio cioè gli scioperi non come dire non dichiarati spontanei o meglio all'esterno delle dinamiche sindacali di negoziazione col padronato quindi il gatto però in un certo senso anche la strega perché il gatto nero che vola di notte su qualcosa che può sembrare una scopa ricorda un po' la strega l'immagine però è molto ricca e complessa cioè questo mostro in realtà fa riferimento anche a Guernica come vedete se non altro attraverso questa questa lampada centrale questo cioè la lampada il titolo è buonanotte signor padrone quindi trattandosi di un incubo perché questo è il titolo nei bozzetti la lampada cioè si può immaginare che il padrone dorma al buio la lampada la lampada accesa fa parte dell'incubo ed è la lampada di Guernica un simbolo di antifascismo molto noto all'epoca e la sua fiamma allude al simbolo dell'MSI ma incubo è anche il quadro di Fussli il famoso quadro di Fussli che si chiama appunto incubo e quindi l'operaio diventa quasi una sorta di goblin un'altra immagine sempre realizzata da Mariotti sempre all'interno di questa corrente politica anche se qui siamo ormai a potere operaio ma insomma le figure sono in parte le stesse all'inizio del 69 è certo un operaio di fabbrica forse un operaio della fonderia ma è anche un riferimento a una figura all'epoca famosa della pubblicità che il cash fiat era un prodotto contro mal di testa che nulla aveva a che vedere con la fabbrica però anche qui la figura dell'operaio diventa quasi una sorta di mefistofole di figura actonia diabolica e paradossalmente e qui che io trovo veramente geniale l'operazione questo fiat si rivela per quello che è cioè certo l'acronimo fabbrica italiana e automobili torino ma anche un tentativo da parte della fia di presentarsi fia fa riferimento alla genesi in cui appunto e luce fu in latino fiat quindi la produzione industriale come sinonimo di creazione di un mondo e quasi come divinità qui l'operaio viene quasi rappresentato come una sorta di lucifero in cui la luce viene appunto dall'inferno più che la luce eterea della genesi quindi ancora una volta qui avete tre esempi di figure di un operaio fondamentalmente antropomorfo eppure allo stesso tempo mostruoso diabolico ecco questo è molto importante per capire il lavoro di Eshauren cerco di accelerare un po' avete in un certo senso due tipi di classe operaia o di soggetto politico comunista o socialista una figura angelica cioè il San Giorgio moralmente superiore che lavora per il bene comune è una figura demoniaca una classe lavoratrice come dire che difende i propri interessi non quelli dell'umanità della civiltà e che si nega come come capitale variabile quindi in un certo senso è una classe operaia che nega la propria identità di classe operaia cioè di classe che deve lavorare anziché valorizzarla la nega e in questo senso che il mostruoso il demoniaco il negativo diventano interessanti perché permettono di visualizzare qualcosa che nega la propria stessa identità vedete bene che è un passaggio concettuale molto difficile perché come fa un artista a rappresentare qualcosa che deve negare la propria identità complesso e la controcultura degli anni fine anni 60 e 70 fa qualcosa fa un'operazione in parte simile cioè questi siamo sono i situazionisti inglesi che cercano di rappresentare qui vedete la lista no delle cose che dovrebbero essere come dire incorporate all'interno di questi di queste immagini mostruose o demoniaco cioè i dannati i malati i disprezzati i malmessi insomma vedete voi come tradurre le streghe però anche gli operai vengono rappresentati appunto qui c'è un diavolo fatto da Delacroix che viene riutilizzato questa è la figura di Fantomas un ladro e assassino delle sorte delle figura un po' degli anni 20 che emerge in Francia in alcuni libri e qui c'è Rosa Luxemburg che è stata uccisa dagli spartachisti che riemerge dopo dieci giorni o due settimane qui aveva passato in un canale di Berlino e quindi la figura del comunismo non come fantasma ma come mostro che riemerge dagli abissi ma non l'hanno uccisa gli spartachisti i fascisti naturalmente lei era spartachista ecco mi sono impallato subito qui c'è un'altra arca miseria perché fa questa cosa qui c'è un'altra 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 eh perché ho sbagliato eh niente qui questa è diabolica veramente sta cosa allora ecco bene praticamente però qui per voi è molto piccola niente la controcoltura adotta anche dei mostri biblici del quattrocento per cercare di rappresentare se stessa cioè la singolarità delle varie figure questo ovviamente è un detournement cioè il gruppo di questi mother fuckers riutilizzano un testo del quattrocento per rappresentare se stessi come delle singolarità mostruose eh qui siamo invece in Italia dove un libro citato eh qualche ora fa da Filippo del Lucchese viene riutilizzato all'interno di una di un appunto di un contro giornale sballo fumetti di area eh situazionista in Italia la vedete in alto e eh questo è un po' lo sfondo necessario per capire l'operazione che fa eh Paolo Eciaren nel 77 Paolo Eciaren ehm allora io purtroppo non posso introdurre il movimento del 77 però volevo fare ciò con un'immagine eh qui avete lo stesso motivo quello dell'incubo che era un po' alla base dell'immagine dell'operaio di Mariotti dei primi anni 60 degli operaisti e qui vedete come questa immagine ritorna in eh le straordinarie avventure di Pentotal di pazienza questa è la prima pagina eh delle straordinarie avventure di Pentotal e questo quadro eh viene utilizzato qui eh però qui non è più il padrone il signor padrone che come dire eh agli incubi i suoi incubi sono la classe operaia mostruosa qui è il soggetto stesso quindi che è abitato da degli incubi e c'è questo passaggio molto importante perché mentre qui c'era ancora una dimensione antropomorfa benché abitata dal mostruoso qui come dire è il soggetto politico eh o comunque del movimento del 77 e pazienza ne faceva parte sebbene in modo come dire appunto individuale non 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 faceva parte di gruppi però insomma qui il soggetto politico viene abitato da dei mostri quindi c'è un passaggio c'è una fragilizzazione se volete e il mostro non è più eh almeno in questa fa in questo in questo ambito eh un soggetto organizzato collettivamente ma appunto una figura che fa paura a a all'individuo che invece eh si vorrebbe politicamente attivo c'è un come dire un'inversione della negazione allora questo per dire che il 77 ed è questo che ritrovate molto nell'immagine di 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 è fondamentalmente eh questo passaggio cioè ehm il mostro eh diventa qualcosa eh di totalmente non antropomorfo questo si vede molto bene nel lavoro di Paolo e Cia diventa eh davvero ehm come dire singolarità per riprendere un termine di oggi allora eh non ho molto tempo per riassumere diciamo la la carriera di Paolo prima del 77 comunque insomma faceva delle opere politiche come qui vedete degli esempi che mischiavano i topos visivi degli anni 70 con la storia del movimento operaio quindi le immagini in giallo fanno parte della come dire la pubblicistica degli industrial workers of the world ehm però fa anche delle copertine per savelli alcune delle quali diventano abbastanza famose come porci con le ali però anche delle opere più classiche che espone in galleria qui avete un'opera che con la quale Nanni Balestrini poi cerca un dialogo e crea una una ballata e questa questo utilizzo di queste molteplicità di figure vedete qui cominciamo a vedere il mostruoso cioè i vari i vari le varie teste a volte hanno qualcosa di antropomorfo però hanno dei corpi cioè hanno dei corpi antropomorfi ma hanno delle teste eh come dire che hanno qualcosa di mostruoso come qui per esempio eh quando nel 77 Pablo e Charlie incominciano a lavorare la lotta continua riprende quest'iconografia la approfondisce e cerca di in qualche misura eh visualizzare una nuova soggettività che emerge nelle piazze che emerge nelle università occupate che emerge a volte eh nel precariato di fabbrica che è sempre più presente eh e lo fa attraverso la figura del mostro eh qui avete degli esempi e appunto ci sono varie tipologie di mostruoso nel suo lavoro a volte si tratta di opere che ricordano i mostri di di Bosch altre volte sembra più fa riferimento a un a un mostro surrealista a certe opere di Magritte per esempio oppure ci sono i lucertoloni con queste lingue infinite eh e che si esprimono l'ho fatto vedere poco fa adesso però non voglio tornare indietro a volte in una lingua in una una lingua sconosciuta ah scusa no perché fa così ah ok ecco qui vedete per esempio questa sorta di geroglifico che eh con il quale il mostro cerca di comunicare qualcosa allora è un tentativo di mostrare eh l'estrema eterogenità ah del movimento del 77 ehm il suo essere eh strambo eh estroso ehm è allo stesso tempo elusivo cioè difficilmente è catalogabile nelle nelle tassonomie politiche del novecento perché cosa sono questi mostri sono creature prive di un genere specifico sono creature mh diverse dagli operari mariotti che certo avevano qualcosa di mostruoso ma anche qualcosa di chiaramente identificabile come antropomorfo o addirittura operaio per esempio la famosa salopette che avete visto poco fa ah quindi il bestiario di Esciaron è un bestiario come dire che si allontana ulteriormente dalla tradizione socialista e comunista e allo stesso tempo però si pone in continuità con questo tipo di movimento operaio di cui parlavo prima cioè di movimento operaio eterodosso che cerca nel mostro non una delegittimazione ma al contrario una forma di negativo da valorizzare le opere di Esciaron a volte sono molto sottili nel senso che benché le dimensioni siano ridotte c'è c'è molta ricchezza concettuale per esempio ecco voi vedete quanto è piccolo questo lavoro eppure qui c'è un riferimento per esempio a Deleuze che parla del Ua Stad nell'antiedipo mi pare e allo stesso tempo c'è un riferimento alle brigate rosse che vogliono attaccare il cuore dello Stato e quindi c'è ovviamente un'ironia rispetto a questo progetto politico che Pablo ritiene come molti nel 77 totalmente fallimentare e paranoico allo stesso tempo c'è quasi a meno io e la lettura che ne do una parodia del militante un po' robotizzato da dieci anni di marxismo leninismo che non riesce a utilizzare i testi classici del marxismo per interpretare questa esplosione del privato che vedevate anche nell'opera di pazienza questa grande confusione emotiva esistenziale che cerca a volte un'interpretazione politica in questo per esempio un evento femministo ovviamente è stato molto importante però insomma la caricatura o l'immagine suggerisce la difficoltà di trovare queste letture altri mostri non so quanto questo fosse consapevole ma insomma è poco importante sembrano usciti dai Wundakama del Tardo 500 quindi qui vedete i riferimenti iconografici sono abbastanza calzanti qui ci sono dei mostri in formalina non so se l'abbia fatto Pablo però fa sempre parte di questi mostri che appaiono su Lotto a Continuo nel 77 Lotto a Continuo è una rivista che vende tra le 15 e le 30 mila copie assolutamente seria politica militante cioè non una fanzine e quindi l'apertura verso prego era un quotidiano era un quotidiano sì scusa è vero nel 77 è quotidiano Lotto a Continuo in questo caso i mostri corredono come dire una sezione che si chiama la lettere le lettere dei lettori dove appunto il movimento sembra quasi esprimersi senza filtri il mostro è un spesso un commento ironico a questa a questa sorta di riducibilità alle categorie consolidate che emerge in questa sezione una delle più come dire polemiche e delle più come dire sì che suscitava dibattiti no? perché appunto l'assenza di filtri faceva sì che faceva sì che si leggevano cose estremamente difficili da digerire per un militante un po' più come dire formato negli anni precedenti e quindi ci sono dei riferimenti cruciali con il 500 i primi del 600 qui il pesce palla che ritrovate ancora una volta in questi tipi di luoghi di cui oggi abbiamo parlato poco però sono per dirla in poche parole sono dei luoghi dove il mostruoso è associato cioè è difficile di assumere in poche parole il Vundakama però diciamo così sono luoghi dove dove si cerca l'essere limite dove si cerca il meraviglioso il mirabolante ma allo stesso tempo ciò che viene percepito come epistemologicamente incomprensibile per esempio degli oggetti come le perle le spugne sono vegetali sono minerali e tutto ciò suscita meraviglia e ovviamente l'interesse dei viaggiatori e del bel mondo che frequenta questi spazi che sono per certi versi l'anticamera dei musei di oggi a volte i riferimenti sono a quelli delle grottesche delle decorazioni di origine romana che vengono riscoperte nel 500 qui vedete certo sono spesso decorazioni in cui gli elementi vegetali costituiscono delle sorti di architetture un po' surreali ma ripeto siamo queste sono rivisitazioni cinquecentesche delle grottesche romane dell'antica Roma queste sono grottesche manieriste e qui vedete come qui si tratta di palloncini però insomma ci sono delle affinità strutturali per come vengono come viene organizzato lo spazio e le figure mostruose vengono legate in modo appunto abbastanza surreale qui i mostri ecco ancora una volta si rivelano per quello che sono cioè delle figure del movimento qui si esprimono collettivamente vedete i vari titoli delle fanzine tipo Attraverso Zut Oask qui vedete il titolo di Oask che è gridato da questo gruppo di mostri da questa sorta di di grande teoria di esseri come dire informi e uno dei miei preferiti è questo qui cioè quasi io ci vedo forse appunto in modo anacronistico una forma di intersezionalità cioè una molteplicità di esseri che convergono verso un movimento quello del 77 estremamente eterogeneo in cui ci sono le piramidi il direttore di Pisa in cui ci sono i ragazzi con la miglietta strisce forse un riferimento a alcune lotte dei primi anni 60 all'antifascismo dei primi anni 60 insieme a molto altro come vedete gli anni 80 i primi anni 80 e i tardi anni 70 sono caratterizzati in Italia dalla presenza del mostro non è così importante capire in che misura ci sia un'influenza diretta del lavoro che Pablo fa per lotta continua però qui vedete per esempio delle riviste di movimento questo è 7 aprile qui avete metropoli mi pare e qui vedete appunto Frankenstein e la tematica del cyborg non è evocata in quanto tale ma comunque è chiaro il legame la fabbrica di forme la figura di Frankenstein delle sorte di robot che combattono c'è questo dibattito sulla tecnologia e la produzione qui addirittura i Volsci un gruppo d'autonomia romana nel 78 presenta l'autonomia come un mostro dalle molte braccia il mostro comincia a parlare e poi appunto il drago viene che fa sorridere pensare a Mariotti in realtà non c'è una derivazione diretta del San Giorgio del Drago però il drago ritorna costantemente è uno dei simboli se volete dell'autonomia forse anche perché in particolare il drago cinese permetteva di immaginare un corpo politico molteplice fatto di il drago cinese un essere multiforme con i baffi del pesce gatto le corna di cervo il corpo di un serpente i piedi da gallina che vedete anche che avete visto poco fa in uno dei mostri di Echauren in generale in generale il mostro secondo me della fine degli anni 70 e dei primi anni 80 che appare sempre di più nelle pubblicazioni di movimento è e in questo secondo me ancora una volta c'è continuità con il 500 con i Vundakama cioè è il mostro che segna che prefigura un passaggio storico tra diverse epistemologie in cui l'universo secondo me fordista della produzione in serie della produzione con la catena di montaggio sta venendo meno e appare qualcosa di nuovo e nei grandi momenti di passaggio così come accade nel 500 i mostri appaiono i mostri appaiono e sono delle figure che in qualche misura incarnano il cambiamento suscitano meraviglia stupore e allo stesso tempo paura come tutti i grandi cambiamenti storici e secondo me è molto interessante vedere come anche i film fino agli anni 70 prima agli anni 80 sono spesso caratterizzati dal mostro la serie Alien è una serie dei primi anni 80 il Rocky Horror Picture Show è del 79 ci sono tanti riferimenti nella cultura filmica cinematografica dell'epoca in cui il mostro è davvero centrale allora io volevo concludere con una riflessione che porta al contemporaneo cioè le soggettività politiche oggi e in particolare questo riferimento costante alle maschere e al camuffamento del proprio volto ovviamente le ragioni sono molteplici però quello che mi interessa sottolineare è la continuità cioè da un lato avete un movimento operaio quello eterodosso diciamo per esempio degli operaisti o la controcultura degli anni 60 quella di cui ho parlato all'inizio del mio intervento in cui c'è l'antropomorfo ma c'è anche il mostruoso il mostruoso valorizzato come negazione ma negazione anche della sinistra storica anche del socialismo come santo come San Giorgio nel 77 avete un tentativo da parte di Pablo Chauvin per esempio di immaginare una nuova soggettività attraverso la mostruosità cioè un tentativo che come dire valorizza la singolarità l'individualità il caos OASC è un po' un acronimo di caos come qualcosa attraverso cui bisogna passare non come qualcosa da come dire da confutare da opprimere da nichilire ma da valorizzare magari come passaggio però insomma sono dei mostri comunque positivi e oggi in queste manifestazioni nella cultura visuale delle proteste Joker è un mostro umano deforme bruciato deformato lo stesso la stessa maschera del Viper Vendetta fa riferimento a una forza distruttiva fa riferimento a Gifox a questo cattolico che voleva far saltare in aria il Parlamento inglese all'inizio del 600 quindi anche qui avete una forza come dire negativa diabolica almeno così è stato a lungo rappresentato Gifox e tutt'oggi del resto viene festeggiata la sua morte e allo stesso tempo i passamontagna sono figure in cui attraverso i quali la figura umana il viso cioè il locus dell'individualità dell'essere umano viene deformato viene reso anonimo ma anche per certi versi mostruoso quindi secondo me uno degli aspetti più interessanti dell'analisi dei mostri di Pablo Echowen che permette di vedere una continuità all'interno diciamo dell'anticapitalismo dagli anni 60 a oggi malgrado le grandi differenze malgrado delle culture visuali ovviamente molto diverse è secondo me uno di quei momenti di riflessione di passaggio che permette di appunto immaginare in modo costruttivo una continuità anche con un certo movimento operaio storico nella cultura visuale delle proteste di oggi ecco questa era un po' accarrellata la narrazione che volevo fare volevo dire una cosa che Pablo ha fatto tutta una serie di lavori dedicati a Neandertal quindi non lo so se questo è tecnicamente possibile io perché Pablo purtroppo non sa troppo gestire la questione del powerpoint e della condivisione dello schermo se tu vuoi e se è possibile l'ideale sarebbe che parlasse Pablo e qualora lui avesse voglia di mostrare delle immagini tu abiliti me che ho in un certo senso il powerpoint con le immagini ma tu sei già abilitato Jacopo ti ho abilitato prima allora perfetto pensavo che avessi una durata limitata no adesso dovrei vedi che ci sei anche adesso tu non lo vedi perché non condivido lo schermo ma ci sei anche adesso ti faccio notare ma abbiamo tre quarti d'ora dopo per la discussione cominciando ora che c'è una domanda per te da parte di Maddalena quindi in chat però la trovi apri la chat dopo la vedi ma intanto facciamo così io ci sono ragazzi rientrate che cominciamo che così proviamo a finire io scusate io poi devo restare a Bologna te lo dico perché non vado a Cali direttamente se vuoi restare a cena a Bologna te lo dicevo perché dopo io non vado a casa subito allora direi i ragazzi stanno rientrando un minuto che ci siano tutti in aula poi quelli collegati sveglia che riprendiamo è un pomeriggio inteso ma mi pare che abbiamo affrontato tanti aspetti Paolo ci ha proposto un molto interessante titolo Sapiens e Neander tali mostri come noi che è uno spunto vedremo cosa ci racconta ma nella programma vi abbiamo messo anche una breve sintesi di quello che dirà che trovate nel programma ampio del seminario con bibliografia diciamo che io adesso dà la parola a Pablo ho già avuto richieste oltre a quella in chat di Maddalena mi è arrivata in Whatsapp una richiesta di intervento chi vuole prenotarsi man mano ti alzi la mano che dopo facciamo una lista finito anche l'intervento di Pablo e discutiamo un po' di tutto quindi o mettete in chat la richiesta o mandate a me un ma sì mettete in chat oppure alzate la mano che io man mano prendo nota intanto allora grazie tantissimo a Pablo e Ciauren che è stato ampiamente presentato da Jacopo nella sua introduzione che ha preso il tema più ampiamente ma abbiamo visto essere protagonista di questa attualizzazione del tema del mostro in chiave di interpretazione del momento del 77 ma anche oltre quella soglia mi pare quindi molto interessante sentire cosa ci dice oggi grazie ancora Pablo alla parola a te allora intanto come dire per restare in tema di politica mi sento una sorta di prigioniero politico perché non sono ovviamente un professore non sono un parlatore non sono neanche un laureato quindi sono completamente fuori contesto quindi parlerò così a braccio non so neanche che cosa dirò sono un po' nel pallone non è appunto mia insomma non è non sono di solito rispondo a domande non so fare un discorso lungo e filato mi rilascio a quest'idea del mostro questo è il mostro la è viscerata è sviscerata e perfettamente Jacopo e risale a un mio periodo al periodo in cui io in qualche modo altre volte la militanza eccetera eccetera apparteniamo a una realtà a una declinazione del movimento che si autodefiniva indiani metropolitani oggi come oggi tutto ciò è strapassato è secolo e millennio trascorso quello che faccio è stato in qualche modo definito da un mio amico paleoantropologo esimio professore Giorgio Manzi come invece appartenente a una categoria di neander italiani metropolitani diciamo che allora per me il mostro è stato parlo di me stesso in qualche modo non ho da proporre un argomento come dire davvero generale per me il mostro è stato una sorta di involucro come una specie di potremmo dire di crisalide in cui trovare rifugio d'altra parte il mostro in senso medievale sì è tutto quello che è stato detto finora perché ho seguito dall'inizio ma per esempio veniva anche usato in maniera apotropaica sulle facciate delle chiese delle chiese gotiche cioè il mostro e anche il grovigno umano inesplicabile inesplicabile no e cose come dire comunque assurde servivano a confondere il diavolo appinché esso non entrasse nella chiesa stessa quindi il mostro serviva anche come strumento per allontanare il mostro per antonomasio cioè il diavolo e il maligno quindi io comunque al di là dei mostri del 77 mi sono sempre servito di mostri di grotteschi eccetera eccetera negli ultimi tempi con l'incedere dell'età perché ormai ho raggiunto i 70 anni con il senso di sempre maggiore allontanamento con il sesso civile umano ho sentito intanto ho sentito come dire in qualche modo il richiamo del Neanderthal allora diciamo che io sono un ex bambino ed ero un bambino di quelli che invece che giocare a calcio si interessava di natura e soprattutto di coleotteri di fossili sono uno di quelli che quando cammina non guarda il cielo le nuvole ma guarda per terra se c'è qualcosa da raccogliere ecco in questo senso ho cominciato a raccogliere le pietre del Neanderthal ma non per un vizio così appunto di diciamo di collezionismo di bisogno di catalogazione eccetera ma perché alla fine mi sembra che vada in qualche modo recuperata la figura del Neanderthal fuori dagli schemi che abitualmente gli sono dati anche se negli ultimi anni il Neanderthal sta subendo una forte rivalutazione allora per sintetizzare il titolo appunto di Neanderthal i mostri siamo noi da Sapiens e Neanderthal allora finora si considerava il Neanderthal una forma di una specie che una forma di pre-evolutiva della nostra quindi si diceva Homo sapiens Neanderthalensis genere specie no? Homo genere specie quindi una denominazione del Sapiens e Homo Sapiens Sapiens si raddoppiava il Sapiens adesso si è capito che invece le due specie non hanno una parentela diretta che non sono una emanazione e trasformazione dell'altra ma sono due rami di uno stesso cespuglio ma due rami che non vengono uno prima e uno dopo e uno dopo quindi va affrontato il Neanderthal come qualcosa non di precedente a noi ma anche di coesistente alla nostra specie allora da quando è stato trovato il primo posto di Neanderthalensis che è 1856 poco prima che Darwin disse alle stampe di dottorie sull'evoluzione da quando si sono trovate queste ossa questo essere è stato visto via via come qualcosa appunto di mostruore all'inizio addirittura qualcuno non lo considerava neanche facevano fatica a considerarlo come un essere primitivo perché non si era non si aveva questa coscienza di qualcosa che presi stesse a noi si parlava di diluvio anche diluvio eccetera ci si basava sulla Bibbia sostanzialmente quindi c'era una creazione umana che non poteva prescindere non poteva contemplare di dire qualche cosa che si disse noi cioè l'uomo voluto da dire quindi questo essere era considerato addirittura qualcuno pensava fosse un cosacco che si era quindi uno qualche ho visto scompare tutti si pensava che fosse forse un essere come dire forse malato per le gambe un po' curve rispetto alle nostre forse qualcuno ipotizzava fosse un cosacco che si era rifugiato in una caverna ferita per morire eccetera eccetera comunque veniva raffigurato come un essere assolutamente bestiale e peroso c'è un'immagine curiosa che raffigura un neandertal all'indomani del suo ritrovamento questo in Francia alla che tra l'altro appunto lo vede veramente scimmiesco ed è l'immagine che poi qui fa da sfondo alla lucandina che viene molto spesso usata dai paleantropologi per raccontare appunto questa percezione del neandertal che però invece è curiosa perché è stata dipinta a caldo proprio nell'anno del ritrovamento del del fossile da un famosissimo artista poi astratto Pablo Upca ecco eccolo ho condiviso ho condiviso l'opera che c'era anche nella lucandina lo vedo lo vedo vedo sì sono pleistocenico ma lo vedo ancora anche se sul telefonino quindi molto quindi allora questa idea che in qualche modo il neandertal fosse qualcosa di regressivo rispetto a noi noi saremmo serviva è servito anche a in qualche modo porci in quella visione evolutiva che noi abbiamo di noi stessi per la quale noi saremmo come dire il fine ultimo del progetto divino quindi la specie per antonomasia quella che fa anche fatica a considerarsi animale in qualche modo ma via via si vanno scoprendo altre cose diciamo nelle ricette la paleoantropologia come qualunque altra scienza è soggetta a continue revisioni ci vuole poco basta trovare una falange che contraddica la visione fino a quel momento sviluppata per aprire scenari imprevisti però appunto adesso si comincia a capire che noi sapiens non siamo qualche cosa di più evoluto rispetto al neanderthal ma anzi alcune delle prerogative che attribuivamo attribuiamo a noi stessi per definirci appunto sapiens sono state invece praticate molti anni prima molte migliaia di anni prima dal neanderthal ci sono alcune cose a volte anche in materia di contestazione ma per esempio si considerava che la percezione del corpo quindi l'avvellimento fossero proprio prerogative del sapiens come per esempio l'uso delle penne o possiamo dire delle conchiglie probabilmente per essere infilate in collane o moniglie eccetera eccetera quindi addirittura la percezione simbolica quindi l'arte e tutta una serie di soprattutto per esempio il rispetto dei defunti l'accudimento dei signori tutte cose che attribuivamo al sapiens abbiamo scoperto che invece erano state scoperte praticate a volte alcune decine di migliaia di anni prima dal Neanderthal quindi questo riposizione il Neanderthal rispetto a noi faccio una piccola parentesi di attualità in questa divisione di due specie diverse si è arrivati alla consapevolezza che il sapiens nasce in Africa e si diffonde prima verso l'Oriente e poi ritorna verso l'Occidente verso l'Europa fino a stabilizzarsi intorno ai 40.000 anni fa in Europa ebbene in questa visione dell'Africa come culla di tutte le specie umane perché anche prima l'homo erexus aveva fatto le sue migrazioni eccetera eccetera in realtà emerge che invece c'è un'unica specie davvero europea ed è il Neanderthal il Neanderthal quindi diversamente da come è stato raffigurato peloso scuro purvo scimiesco eccetera eccetera alla fine appare invece come un essere quasi rosso biondo di pelle chiara eccetera eccetera a volte a volte addirittura qualcuno dice con occhi chiari azzurri queste cose fino a questi dettagli non possono essere conosciute però si come dire si manifesta una dicotomia tra sapiens e Neanderthal per cui il sapiens è il nero che esce dall'Africa e fino a colonizzerà poi tutto il globo fino a in qualche modo causare l'estinzione di altre specie che sono coesistite con lui mentre il Neanderthal era l'europeo bianco per un paradosso politico potremmo dire che come dire i sovranisti che vedono il rischio di 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 sottomissione come dicono alcuni scrittori francesi ma di sottomissione comunque di costrizione della nostra cultura da parte delle immigrazioni dall'Africa è vero ma quello che manca a questo postulato è che i neri sono proprio quei sovranisti perché che hanno come dire esercitato la loro peculiarità aggressiva invasiva e anche violenta nei confronti di quest'altra popolazione bianca o comunque chiara di pelle che era diversa da loro ma da loro diciamo dai sapiens cioè da noi stessi quindi il paradosso vuole paradosso vuole che come possiamo dire il sovranista che teme l'emigrazione dall'Africa è in realtà colui che a suo tempo emigrato e ha in qualche modo determinato l'estinzione della popolazione precedentemente stanziale in Europa quindi questa è la piccola parentesi sull'oggi che noi potremmo ripetere come un mantra a tutti coloro i quali parlano del pericolo migratorio i migranti siamo noi gli altri erano stanziali e ce ne siamo dimenticati anzi nel dimenticarce li abbiamo anche mostruosizzati resi subumani ecco in questa comunque in questa certezza che l'uomo sapiens quasi certezza per esempio non ci sono tracce di omicidi tra Neanderter mentre ci sono abbastanza frequenti tracce di omicidi tra i sapiens in questa visione del sapiens come portatore di una maggiore carica di aggressività e anche ovviamente di invasività ha coperto l'intero orbe terracolo ha attraversato oceani eccetera eccetera e ha colonizzato tutto il mondo determinando la fine di altre specie che l'avevano convissuto con lui perché non c'è stato solo il Neanderter probabilmente c'è stato un certo uomo floresiensis c'è stato un uomo di Denisova o Denisova eccetera eccetera che anche loro hanno convissuto con il sapiens in questa sua rappresentazione appunto questa nostra rappresentazione di violenza ci si può contrapporre a questa visione quella di un Neanderter che non vuole però essere una rivisitazione del buon selvaggio c'è un paleoantropologo molto famoso che è morto che si chiama Bjorn Courten che sosteneva che non non riuscendo a dimostrare alcune cose di cui aveva percezione nella sua vita di studi non poteva che raccontarle attraverso romanzi e scrisse un paio di romanzi in cui lui metteva in scena proprio questa divisione i bianchi e i neri i neri eravamo noi e i bianchi erano i Neanderter noi eravamo come dire nella visione di Courten un po' più cattivi e quegli altri erano un po' più potremmo dire quasi non possiamo dire vegetariani ma insomma noi eravamo i carnivori e loro erano i delicati allora io non intendo ovviamente riferirmi a un'idea di buon selvaggio che è tutto anacronistica visto poi in periodi in cui queste vicende si sono svolte ma penso che invece ne vada come ristabilita una sorta di verità che è la verità se vogliamo di ciò che noi come specie siamo abituati a rimuovere tutto ciò appunto che riteniamo diverso da noi e quindi attribuiamo a una realtà mostruosa e nel dire mostruoso diciamo a un qualcosa ci riferiamo a qualcosa di negativo quindi il mio recupero del Neanderthal è il recupero del Neanderthal che è in noi e che potrebbe come dire non essere del tutto estinto ormai si è certi che comunque tra i oltre 5.000 anni di convivenza negli stessi luoghi negli stessi siti tra Neanderthal sapiens hanno prodotto come possiamo dire accoppiamenti ibridazioni acquisizioni di DNA e ovviamente non è non può essere questo mio atteggiamento non può essere verità scientifica viene trattata da me come 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 un'occasione per rivedere la mia la nostra posizione nel mondo e in qualche modo restituire una verità al nostro a un nostro parente che viene raffigurato è stato raffigurato come appunto parente diciamo demente in fondo in fondo come 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 diceva Manzi Giorgio Manzi appunto il parlo antropologo diceva che era stato un ammiratore di questo gruppetto di cui io facevo parte che aveva gli indiani metropolitani e rivedeva la possibilità di ricostituire i neandertaliani metropolitani anche nell'indiano metropolitano ovviamente c'era l'individuo che era stato rimosso dalla colonizzazione europea in America e quindi il neandertal è l'individuo che noi abbiamo rimosso noi sapiens colonizzati l'individuo su suponare anche sugli apporti potremmo dire artistici c'è anche un altro paradosso che non riguarda prettamente il neandertal ma addirittura riguarda un asomo quindi i cosiddetti australopitechi o australopitecini che riconduce alla possiamo dire alla forma di arte sviluppata da noi sapiens e la forma estrema di arte che noi abbiamo sviluppato è quella del ready-made Duchamp è l'interprete di quella che per qualcuno è il vero scheletro dell'arte svuotata dai suoi o almeno scarnificata dai suoi significati estetici e di gusto che è appunto il ready-made ebbene diciamo il il ready-made inconsapevolmente ovviamente non è stato inventato da Duchamp ma è stato inventato proprio dagli australopitechi una specie poi particolare che si chiama australopiteco africanus che come dire si è sviluppato in Sudafrica ebbene è stata trovata una pietra una piccola pietra che ha una forma tondeggiante che sembra rappresentare una faccia ma questa pietra non è stata lavorata dall'uomo che cercava di fare una sculturina è stata lavorata dall'acqua dal tempo eccetera eccetera ma l'uomo l'ha presa l'australopiteco che non era quindi neanche un uomo essere portata nella propria diciamo nel proprio sito allora i paleoantropologi definiscono questo tipo di oggetti cioè oggetti che non fanno parte di un luogo specifico ma sono stati trasferiti in quel luogo possono essere una conchiglia possono essere eccetera eccetera li chiamano manuport vuol dire qualcosa di non lavorato ma identificato raccolto e portato con sé da un essere umano o anche preumano ebbene questo manuport con questa faccetta che sembra quasi una scimmia ovviamente perché ancora non c'era l'uomo in quanto tale questa faccetta è un ready made antelitter ma un ready made non fatto appunto dall'uomo ma fatto dalla natura ma che un essere della nostra diciamo stessa del nostro stesso cespuglio evolutivo si è preso si è preso la briga di prendere di portare così probabilmente perché gli piaceva perché ci si riconosceva perché riconosceva qualcosa da guardare quindi questo manuport in qualche modo può essere il vero antecedente di quella che poi noi diciamo sensibilità percezione simbolica che sta alla base della definizione di arte o non arte e quindi è abbastanza curioso scoprire e questo è un dato certo credo inconfutabile che la prima forma di percezione simbolica addirittura da parte di un essere non umano sia in qualche modo assimilabile a quella che è in fondo la forma estrema di radicalizzazione dell'arte cioè il ready made di Duchamp ecco ragionando intorno a tutte queste cose mi è sembrato di poter impapocchiare questi miei questi miei lavori tra preistoria e storia e diciamo di anche ripristinare se è vero che la 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 scrivono i vincitori di solito come dire maltrattando i vinti immaginiamo cosa si possa fare con la preistoria dove non c'è neanche più una testimonianza da poter in qualche modo impugnare mi è sembrato di fare questo tipo di operazione pensavo per certi versi di fare qualcosa di completamente peregrino quando invece appunto incontrando due paleoantropologi paglia appunto accademici guardandoli e spiegandogli io quali erano i miei intenti invece che prendermi a pernacchie hanno detto e hanno deciso di in qualche modo fare un pezzo di percorso insieme per cui a breve noi facciamo una mostra insieme appunto che verrà fatta all'Università della Sapienza di Roma di queste mie scatole e delle loro considerazioni sul Neandertal che non sono così benevole come le mie ovviamente ma che comunque non trovano nelle mie una totale idiozia da pittore questo è diciamo il mio la mia piccola testimonianza e la mia piccola apporto a questo convegno che insomma mi vede che sono portatore di appunto di studi scientifici ma come dire la domanda finale è a volte si dice nei movimenti rivoluzionari un altro mondo è possibile eccetera ma se non si fossero estinti diciamo intorno ai diciamo per semplificare 40.000 anni fa in Neandertal un'altra rivoluzione sarebbe stata possibile e quale sarebbe stata questa è la è la piccola domanda che io mi faccio stop sono stato nei tempi perfettamente grazie Pablo molto chiaro molto nei tempi poi io non l'ho ricordato ma va detto tu hai come dice presentato come odessa ma in realtà la fondazione Salaris e Ciauren è una delle più importanti collezioni di futurismo del mondo e in ogni caso il tuo lavoro parla per te a prescindere da titoli e consacrazioni che peraltro come vedi ci sono molto volentieri non in una chiave accademica di imbalsamazione ma proprio come scambio attivo di fatto io sentito di parlare avrei già maturato un paio di domande ma ci sono tre iscritti a parlare prima di me invito chi altri vuole fare domande dunque Micaela Antonucci me la segno chi altro c'è oltre a lei intanto la prima domanda era per Jacopo quella di Maddalena se vuoi rispondere tutti ce l'hanno in chat e quindi puoi anche direttamente poi passerei appunto alle altre domande volentieri Sì Scusate Scusami Jacopo Andrea ti posso chiedere poi visto che io mi devo sconnettere prima se posso saltare l'ordine delle domande e farla dopo quella di Maddalena Va bene grazie Jacopo poi passiamo alla tua domanda Grazie La domanda che adesso carico sullo schermo Volevo limitarmi a dire questo il concetto di capro spiatorio è chiaramente un concetto molto complesso quindi a livello storico concettuale filosofico quindi difficile dire se possa essere l'interpretazione tuttavia quello su cui credo aver insistito nel mio intervento e sicuramente ho insistito in generale nelle pubblicazioni che riguardano queste tematiche è proprio quello dell'antiumanismo antiumanismo che io inteso inteso come come necessità però non banalmente di spostare l'attenzione verso che ne so il non umano ma semplicemente verso un tentativo di pensare la negazione del capitalismo in termini che non sono quelli tradizionali del socialismo ottocentesco e primo novecentesco può sembrare banale però non lo è nel senso che quella del del mostro come figura che non presenta alcun tipo di superiorità morale o che non è lì per salvare il mondo è qualcosa secondo me di molto tutt'oggi di molto difficile da accettare per la sinistra che invece tende a presentarsi appunto spesso in questi termini quindi secondo me il mostro è più che altro più che come capo ispiratorio da leggere proprio come come figura che si oppone a tutta una certa tradizione della sinistra e di autosantificazione della sinistra ovviamente poi diciamo il neolitico quindi il sapiens anche se afferisce anche al paleolitico il neolitico è il luogo dell'accumulazione è l'era in cui potremmo dire del capitalismo nascente dell'allevamento dell'accumulazione potremmo dire anche della mercificazione quindi questo anche è una perfezza del sapiens da cui potremmo chiedere la secessione volendo ecco questo bella questa molto bella sì sarebbe interessante dopo dico qualcosa anch'io a Jacopo e adesso passiamo alle domande allora Michela ci ha chiesto per motivi di urgenza di intervenire subito farei parlare lei però la risposta ci vuol pazienza devi aspettare un attimo va bene no perché come ti avevo detto purtroppo devo andare via un pochino prima con grande dispiacere perché sia il seminario che la discussione sono davvero molto interessanti in realtà la mia domanda è su un tema ancillare rispetto a quelli che si sono discussi ma che a me è molto incuriosito da storica dell'architettura del rinascimento cioè riferimento alle grottesche quindi è una domanda sia per Jacopo Galimberti che l'ha introdotta nel suo intervento ma soprattutto visto che c'è presente per Pablo e Ciauren il riferimento alla grottesca che si era nel rinascimento percepito non tanto come qualcosa di mostruoso quanto come qualcosa di curioso ma comunque legato all'idea di bellezza perché quei dipinti erano venivano scoperti appunto in queste allora erano grotte nella Domus Saura si doveva scendere si doveva scavare ma erano un prodotto degli artisti dell'antichità erano considerati qualcosa di bello da imitare quindi non erano considerati qualcosa di mostruoso il tema del mostro nel Cinquecento poi in realtà c'è ampiamente sia nell'arte che nell'architettura e più che un tema legato a una questione etica e sociale è un tema prevalentemente legato a una questione estetica il mostro il mostruoso è un po' sempre la contestazione del canone diciamo però ecco mi incuriosiva molto questo riferimento alle grottesche che cosa rappresenta poi alla fine per l'artista oltre che insomma per il significato che si dà a questo modo di esprimersi volevo solo dire che mi prendo la responsabilità di questa analogia che diciamo no però anche lui l'ha menzionata mentre il suo intervento esatto lascerei la parola detto ciò lascerei la parola a Paolo grazie no io non sono appunto ne uno storico di niente e un po' l'ho detto cioè da una parte l'idea del mostro va bene come appunto come proprio figura potropa ma di difesa dall'altra per me personalmente essendo stato uno che comunque tendeva molto a riempire lo spazio per me la grottesca era la contrapposizione all'horror vacui io la riprendevo non dall'omosauria ma per esempio ho fatto molte ceramiche in questo senso la riprendevo la grottesca la grottesca praticata soprattutto a Faenza secondo dei canoni e anche delle tipologie che loro va bene cinquecentesche cinquecentesche che loro i faentini chiamano come tecnica a berettino perché è un tipo particolare di blu che diciamo da un blu più chiaro insomma di blu su blu per me era appunto essendo un nevrotico essendo un ansioso eccetera eccetera era la possibilità di nel groviglio vegetale e animale trovare la contrapposizione all'horror vacui di cui io sento in cui mi sento immerso permanentemente quindi era una rete di protezione ecco per poter riempire lo spazio graficamente grazie 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 anche a te Micaela c'è sì è un tema da approfondire casomai dopo ci torniamo io ho avuto la fortuna di vedere Pablo lavorare alla bottega Gatti a Francia e mi ricordo questa derivazione ma ne parliamo dopo ci sono due richieste di intervento una di Francesco Di Maio e l'altra di Stefano Ascari se fate le vostre domande in successione poi sentiamo un giro di risposte sempre che non c'erano altre che hanno domande lo dico anche a voi prego Francesco eccomi mi si vede io ringrazio tutti e vorrei fare una domanda netta alla professoressa Mazzocut Miss e poi richiamare di conseguenza con alcune considerazioni sia Ubaldo che il tuo professor De Lucchese la domanda che rivolgo alla professoressa è il rapporto fra Goffri Santiler e Spinoza e si ricollega agli altri due interventi per un motivo molto semplice Deleuze per leggere il campo di composizione di Spinoza prende Goffri Santiler quindi da una filologa studiosa da Goffri Santiler vorrei sapere cosa ne pensa di questa interpretazione vorrei richiamare di conseguenza gli altri due interventi di De Lucchese e di Ubaldo su un punto che è quello il problema tra individuo o meglio ancora individualità e singolarità perché il professore De Lucchese ha detto che con il concetto di mostro in qualche modo vorrebbe superare la categoria di singolarità però il problema qual è se o meglio mi sembra che l'idea di Ubaldo e quella del professore De Lucchese sia sostanzialmente la stessa ma con termini inversi quindi vorrei che o litigate o vi mettiate d'accordo le pagine di De Lucchese differenza e ripetizione avevano uno scopo ben preciso cioè quella di pensare la differenza in sé cioè smontare la tradizione che da Aristotele arriva al neotomismo quindi Porfirio Tommaso e Tommaso d'Alquino cioè non c'è più un genere sommo da cui poi c'è una specificazione e gli individui sono della materia signata ma abbiamo semplicemente un grande sfondo non so abbiamo l'animale che è l'antropos che è l'animale dotato di logos invece il mostruoso è quello che fa in qualche modo saltare questa questa scala il mostruoso è l'individuo potremmo dire che rivendicando la sua esponendo la sua individualità in qualche modo mette in crisi il rapporto fra genere e specie il mostruoso è quell'umano che pur parlando con logos porta dietro di sé lo sfondo dell'animalità da qui l'idea di applicare la differenza in sé cioè ripensare di nuovo le categorie abbiamo visto mi sembra tutta questa giornata questa è un po' la mia osservazione c'è una forte coerenza nel senso che nel momento in cui il mostro è ciò che si porta dietro questa macro categoria cioè rimette in dubbio le categorie può essere o messo da parte escluso in una chiave conservatrice quindi il mostro è da escludere attenti che potete ricadere nel brutto nel falso e nel cattivo oppure rivendicarle in qualche modo noi siamo il mostruoso noi siamo quel brutto quel vero e quel falso però lo rivendichiamo con voce nostra da qui c'è tutto il discorso del volto che aprirebbe un altro convegno però queste sono un piccolo un piccolo mio delirio e volevo sapere cosa ne pensavate grazie grazie a lei francesco se non ho altre domande savo che la professoressa mazzo con temo se mi sia dovuta andare ci sono ci sono non va la telecamera non so come mai il processo di tutto senti chiaramente forse anche Jacopo dovresti uscire dalla condivisione però in ogni caso se mi sentite sì sì ecco perfetto allora effettivamente Deleuze e Gatteri vengono affascinati dal piano unico di conformazione organica cadono nella trappola del piano unico di conformazione organica certo che poi fanno delle associazioni diciamo così giustificate fino a un certo punto e estremamente suggestive però la fondatezza nella questione più intrinseca al piano unico è un po' è un polabile a mio parere c'è più Leibniz che Spinosa in Geoffrey Saint-Hilaire sebbene sebbene poi effettivamente la suggestione ci sia insomma c'è più tutta una tradizione leibniziana appunto del continuum che si evince io ho in mente quelle pagine sono state pagine che ho letto e riletto più volte però come suggestione nel momento in cui sono dovuta entrare nello specifico nell'opera di Geoffrey Saint-Hilaire diciamo così che un po' dimenticate ecco grazie adesso dunque io però farei visto che la professoressa aveva fretta io devo andare quindi vi saluto e vi ringrazio veramente è stato veramente un pomeriggio intenso ma il contributo è molto efficace grazie a tutti ci vediamo presto volentieri grazie arrivederci grazie darei la parola anche a Stefano che avevo un'altra domanda e poi raccoglierei le risposte casomai se altri hanno domande le facciamo un altro giro ma intanto Stefano se puoi farla tua sì io purtroppo dato l'orario e anche la stanchezza faccio una cosa molto temuta cioè in realtà più che una domanda è una richiesta che vorrei far rimbalzare tra i relatori che ringrazio perché il quadro insomma sul tema dei mostruosi è stato veramente molto ampio interessante e io occupandomi in particolare di tutti i temi legati più alla rappresentazione in particolare della città insomma in linguaggio della rappresentazione mi chiedevo un po' se era possibile fare un ragionamento forse più legato a tutto ciò che avviene dopo l'epoca vittoriana in materia di mostruoso per provare a capire come in effetti lo chiedeva anche uno dei ragazzi questa mattina mi sembra stato un intervento come in qualche modo il mostruoso può essere letto in una dinamica di esterno-interno cioè del mostro che viene in qualche modo da fuori che viene categorizzato all'esterno del consesso civile della percezione del corpo e il mostro che si introietta e si implica nel corpo umano dal punto di vista cinematografico Jacopo prima appunto citava Alien che è citato un po' come uno dei capostipiti di questa tendenza il cinema cosiddetto della nuova carne che vede in Cronenberg uno dei suoi registi di riferimento e c'è sicuramente quindi un tema di come il mostro viene proiettato all'interno e diventa il corpo e credo che questo abbia a che fare però mi piacerebbe su questo magari avere anche un riscontro anche sul modo in cui i dispositivi la città il potere una serie di strutture impattano improvvisamente sul corpo del cittadino e stamattina veniva evocata anche la figura dello zombie che non a caso è un tipo di mostro come dire che ha tutta una serie di risonanze legate più all'epoca contemporanea che all'epoca passata per quanto il tema del Revenant sia a fondi nella cultura anche greca e antica diciamo che mi sarebbe piaciuto capire se ha la possibilità di leggere il tema del mostro anche in termini di distanza il mostro lontano sulle mappe geografiche appunto ancora legato al concetto di meraviglia il mostro che entra si avvicina a tal punto da essere tutt'uno con il nostro corpo questo anche perché e qui c'è il lancio in avanti diciamo ci sono tutta una serie di letture sulla mostruosità che hanno a che fare col mostro inteso come qualcosa di ontologicamente radicalmente diverso che è diciamo la posizione che come dire approfondisce Don Haraway nel suo testo sull'Octulucene che supera in qualche modo i suoi testi sul cyborg e che parla di una mostruosità che sfugge a tutta una serie di categorie e che ci interpella come altro radicale rispetto all'uomo e a una visione antropocentrica è una visione chiaramente che si tinge di temi di genere a luce della quale per dire nel Doyle ad esempio nel passaggio sul mostruoso femminile a dita ad esempio per capirci Mary Shelley come vero mostro rispetto a Frankenstein quindi come donna che in qualche modo si tinge dei caratteri di mostruosità perché evoca a sé il potere creatore della creatura sterile di Frankenstein e che in qualche modo è una lettura che torna a ritroso a riflettere sul corpo del mostro in un'ottica però nuova quella appunto proposta alla Raoui quindi diciamo mi interessava se è possibile poi capisco che l'orario non aiuta avere un ritorno su questi due temi cioè sul processo di interiorizzazione del mostro e come può essere letto anche in relazione all'epoca contemporanea a quello che succede ai nostri corpi quotidianamente e anche in prospettiva futura questa idea del mostro come qualcosa di completamente altro di qualcosa che ci costringe a fare a creare parentele come dice l'Araoui con qualcosa radicalmente diverso da noi per evolvere per uscire insomma dalla nostra contingenza non so se sono stato chiarissimo grazie un altro domande a chi si scusate non ho un obiettivo specifico nel senso che probabilmente sulla situazione della relazione con la contemporaneità mi vorrebbe spontaneo indirizzarle a Jacopo ma insomma se qualcuno ha spunti o suggerimenti in genere sull'epoca vittoriana molto volentieri io posso dare una risposta a Labo poi lasciare la parola per esempio a chi non ha ancora risposto Filippo Ubaldo a me sembra molto interessante per esempio l'esperienza del Covid e quindi di questo essere che deve essere che naturalmente nessuno ha mai visto che deve essere visualizzato e che è visualizzato nei modi più più interessanti a volte come una vi ricordate qualche mese fa adesso se ne vedo un po' meno come una sorta di mina marittima con degli spuntoni che doveva essere un virus ma che evocava appunto paure che hanno cent'anni le mine maritime la prima guerra mondiale viaggi oceanici che poi magari anche negli anni venti erano pericolosi perché c'era appunto qualche mina vagante e secondo me questa cosa del Covid è un tipo di mostro in un certo senso che è apparso negli ultimi due anni come dentro di noi e che ha sollevato a tutta una storia di questioni di quell'ordine ecco anche con la città un po' particolare però avevo voglia semplicemente di fare questa analogia con il mostro dentro di noi e il Covid grazie Jacopo adesso non ho sentito qualcun altro vuol fare una domanda ha delle curiosità prima di farei un ultimo giro tra i vari relatori a Obaldo io avevo fatto un paio di domande nell'intervallo subito dopo la sua presentazione se voglia di rispondermi aggiungerei quella di capire meglio se possibile anche oltre al diciamo così il carattere più o meno di apertura di libertà collegato alle tecnologie più nello specifico delle sue due parti quella riferita a Deleuze e quella riferita a Klosowski a me sembrava andare in due direzioni in due idee diverse di mostruosità e come stanno assieme sarebbe una domanda interessante avrei una curiosità intanto se qualcuno ripeto vuole intervenire alzi la mano avrei un paio di curiosità con domande da fare rapidamente a Pablo una riguarda forse in parte fuori tema ma se ho capito bene chiedo conferma a Jacopo quella serie di immagini che abbiamo visto sono di lavori tutti i lavori di Pablo giusto Jacopo quelle cassette che c'è assolutamente sì 2020 2021 se non erro allora io questo avevo già segnato la domanda vedendole ho fatto un suo passaggio io rispetto a quella struttura tipica del suo lavoro in cui tu ci hai fatto vedere in alcune parti ma che è stata resa famosa per esempio dalla grafica delle collane Savelli negli anni 70 eccetera uno degli elementi chiave è quello della griglia il grid e questa serie di divisione poi lui ci ha spiegato questa ossessione per il tutto pieno come risposta all'orario del vuoto che è molto interessante io mi chiedevo se appunto la genesi di quelle griglie là fosse già allora in qualche rapporto con l'imma per esempio con Joseph Cornell l'idea di costruire di queste shadow cases cioè queste scatoline con dentro delle ripartizioni e delle collezioni di oggetti reali che poi vedo uscire adesso come in parte insomma da dove veniva quella griglia la mia domanda era questa se c'è un rapporto con degli oggetti reali raccolti in collezione o se dopo l'ossessione si traduce dentro queste piccole cassettine di riempire tutto lo spazio mescolando figure immagini oggetti trovati eccetera nella rappresentazione poi dopo vi lascio tutti vi giro tutte le sì molto interessante questa specie di uomo primitivo direttamente chiamiamolo così perché direttamente collegato con invece una specie di punto estremo dell'arte cioè come se i due estremi si toccassero quello però questo è più che altro un'annotazione che non una domanda io sul Neandertal ci sarebbe io spero di riuscire a venire a vedere questa mostra sarebbe molto interessante anche il commento dei paleo antropologi quello che mi chiedevo è appunto sì in realtà per esempio Courten l'avevo letto anch'io negli anni 90 sembra che una parte si basasse ancora su una vecchia idea di Neandertal come ramo che non ha avuto progressioni e mentre tutte le ibridazioni che sono state scoperte con la mappatura del genoma gli erano sconosciuti lui me ne ricordo uno in cui addirittura c'era proprio l'estinzione dei Neandertal perché si accoppiavano con i sapiens le femmine e i risultati erano sterili e quindi si erano estinti mentre oggi pare proprio acclarato il contrario cioè che c'è una stata un'ibrillazione e nello stesso tempo anche quella storia lì diciamo così approda sempre in chiave di nuove ricerche in realtà non è poi così vero se ho capito bene te lo chiedo perché io non sono un paleo antropologo temo che non sia così vero che loro i Neandertal sono diciamo gli europei e non vengono dall'Africa semplicemente sono venuti circa 200-100 mila anni prima degli altri e hanno vengono tutti dalla stessa cipo evolutiva si sono divaricati in Africa in Neandertal sono arrivati almeno le mie informazioni mi danno questa cosa ma insomma in qualche modo dall'Africa veniamo tutti questa era l'idea poi c'è stata un'evoluzione a parte in Europa dei Neandertal che è durata di 100 mila anni quindi che si è differenziata fortemente dai sapiens che nel frattempo si stavano evolvendo in Africa questo lo dico proprio giusto perché è un argomento che appassiona anche me da dilettante quindi senza nessuna pretesa di avere in mano scientificità a Jacopo io farei un'osservazione di fondo che è molto interessante la sua ricostruzione anche il libro che ha fatto sulla base di questo già Michela ha lavorato sulle grottesche che sono un oggetto più complicato e molto interessante da vedere io direi che anche sulla recente è un po' troppo semplificato ma poi possiamo parlarne a parte la contrapposizione e non solo quella che hai presentato qui perché è ovvio che il tempo non consiste di fare un grande discorso ma la contrapposizione tra modelli come se ci fosse stato il realismo socialista il suo rovescio nella valorizzazione del mostro e infine questa liberazione dei mostri proliferanti come entità ibride e scurie che vanno oltre anche i movimenti a me dal punto di vista storiografico la storia delle immagini mi sembra una versione molto 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 semplificata io la complicherei un po' poi se vuoi ne riparliamo in un'altra occasione io ho anche finito le mie domande quindi se nessun altro vuole intervenire lascerei il giro a tutti a Ubaldo a Jacopo a Pablo Maddalena ci ha salutato a Filippo Dell'Ucchese nell'ordine che vi pare quindi se vuoi cominciare Pablo io lo vedo lì pronto a rispondere ben volentieri no 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 non sono pronto a rispondere anzi va bene allora a scuola andavo molto male quindi non rispondevo mai molto bene no allora va bene queste scatole nascono sì ovviamente l'immaginario di ciascuno di noi ci sono tanti siamo contenitori di cose che abbiamo assorbito quindi c'è Cornelma c'è Baruchello anzi io nasco proprio a casa di Baruchello quindi per me per esempio quando vedevo i quadri di Baruchello io che non amavo particolarmente l'arte moderna o contemporanea insomma ci rivedevo quelle che erano le mie passioni cioè ci rivedevo le scatole entomologiche quindi le immaginette come un set nella scatola e le scritte sotto come si fa in una buona scatola entomologica dove ogni set ha sotto la propria etichetta e quindi il mio immaginario è sempre stato un po' di tipo scientifico i libri i libri di divulgazione scientifica ottocenteschi ma anche le enciclopedie quei quadretti che io facevo a quadratini non li vedevo come cose da appendere al muro ma più pagine di un ipotetico atlante finito quindi erano soprattutto biologiche era la mia crescita avvicinata a come dire a ai sovrapposizioni degli strati geologici quindi la crescita di un adolescente eccetera eccetera quindi queste mie scatole un po' ricordano questa cosa qui per quanto riguarda il no pare pare come dicevo tutto può essere smentito il giorno dopo pare che il Neand sia tutto europeo e in qualche modo asiatico pare che eventualmente la divaricazione precedente anche queste categorie sono difficili da dare ma si parla di Homo Heidelbergensis e Homo Antecessor che lì ci sia stata questa divaricazione tra i due rami in Africa il Sapiens in Europa appunto dalle immigrazioni di questi africani antecessore e Heidelbergensis il sviluppo del Neand però appunto tutto può essere smentito il giorno dopo alla fine come diceva qualcuno no l'assenza di una di una prova di un'evidenza non è cioè l'assenza di una prova non è prova dell'assenza cioè il fatto che qualcosa non sia stato ancora trovato non mette in discussione il fatto che ci siano infinite possibilità un po' come diceva come come era la mia domanda retorica ma insomma la mia domanda provocatoria che forse anche un'altra evoluzione sarebbe stata possibile e poiché altro basta mi pare di aver detto perfino troppo molto interessante grazie cercheremo di vedere vedere la mostra così ci divertiamo no ma mandare indirizzo o spedire catalogo benissimo grazie e chi come vogliamo procedere vuoi introdurre tu Ubaldo e vuoi trovare sulle citazioni no non so io pochissime pochissime osservazioni no rispetto alle questioni che hai posto Andrea è chiaro che il piano della complicazione del rapporto diciamo tra il soggetto il soggetto di lavoro e determinate tecnologie è un piano segnato diciamo dall'approfondimento no di logiche di assoggettamento mettiamola così però ecco quello che sta accadendo oggi riprendendo una formula cito ricordo spesso di un amico Cristian Marazzi cioè che assistiamo a un'introduzione scusate il gergo di capitale fisso nel corpo vivente della forza lavoro certamente è una pratica che ha un certo segno e però poi alla fine può residuare anche un supplemento di ragionamento sul fatto che ciò che viene introdotto poi diventa di proprietà di colui che ha subito questa pratica e questo può portare poi a pensare diversamente la gestione della propria sensibilità e della propria intelligenza nel momento in cui appunto ci siamo complicati la vita con determinate tecnologie qui c'è una tradizione di ricerca senza dare troppe etichette molto ricca che parte 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 da 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 per non parlare sempre dei soliti italiani ma poi va a toccare anche tradizioni di pensiero diciamo nostro no di disegno disegno diciamo di marxismo critico ecco dall'esperienza dei quaderni rossi che non è banalmente semplicemente totalmente operaismo poi a quello che è venuto è venuto fuori fuori dopo quindi sì questo è un piano un piano per me importante decisivo sul quale riversare poi tutta una serie anche di di stimoli di sollecitazioni che provengono da ambiti più specifici no di ragionamento sempre sulla complicazione del rapporto tra tra l'essere umano mettiamola così a maglie larghissime e e la tecnica no soprattutto determinate tecnologie questo diciamo per quanto riguarda la prima tua osservazione sulla seconda e bisognerebbe dire 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 molto sulla 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 distanza differenza tra la posizione di 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 Deleuze sì c'è ma non è fondamentalmente rilevante così come la possiamo individuare nel momento in cui siamo attenti ad ampliare le distanze le differenze osservo soltanto che rispetto a Deleuze non c'è soltanto Spinoza ma c'è appunto come ricordava anche Maddalena Leibniz che svolge una funzione decisiva insomma per lo sviluppo del ragionamento dell'esiano anche sui temi della differenza piegata se volete anche piegata ma piegata secondo linee che sono linee sempre diverse di relazione di rapporto con il fuori ma insomma questa è scolastica lasciamola un po' un po' un po' un po' da parte è stata toccata poi poi taccio una questione secondo me interessante quella del rapporto individuo processo di individuazione insomma è chiaro che qui c'è 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 Simon Don e è vero che Simon Don non ha mai toccato la questione il tema del 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 mostro ma quando parla di oggetti tecnici quando parla di 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 fenomeni delle espressioni del vivente quando parla di tanto di tanto altro parla sempre è sempre interessato come sappiamo benissimo in modo specifico in modo essenziale alla operazione dell'individuazione da cui poi risulta tra virgolette l'individuo ecco che cosa vuol dire che cosa significa essere interessati al fenomeno all'operazione dell'individuazione significa essere interessati semplicemente secondo me forse anche troppo per me lo dico io banalmente troppo semplicemente significa essere interessati alla questione dello stato nascente dell'essere tra virgolette per parlare per dire la cosa in termini eccessivamente contratti troppo astratti filosofici l'attenzione va appunto allo stato nascente dell'essere e quando l'attenzione va allo stato nascente per forza di cose è un'attenzione che poi scivola nella direzione dell'incontro con il mostro ecco in quella prospettiva in quell'ottica il tema il motivo del mostro può essere recuperato dalla parte di un autore importante per Deleuze e per tanti altri insomma di un autore che si è impegnato a ragionare sui processi sulle operazioni dell'individuazione i processi le operazioni dell'individuazione sono processi che impongono per essere compresi l'incontro con il mostro poi tra parentesi la questione del cyborg non è un ferrovecchio anche rispetto a quello che successivamente ha scritto ha detto la Haraway anche perché fa capolino in molte di quelle posizioni diciamo così la mistica tra virgolette del radicalmente altro rispetto alla quale io qualche diffidenza la provo manifestando invece più interesse più attenzione nonostante tutto nonostante che possa essere inteso come un ferro vecchio alla figura al tema al motivo del cyborg ecco mi fermo qui è un po' lei dice che si è autosuperata comunque hai ragione non per forza dobbiamo andare dietro no sai perché il radicalmente altro è qualche cosa che spinge io amo Levinas perché ho la formazione lì ma poi su altri piani spinge in una direzione di sensibilità meravigliosa fantastica nei confronti di temi figure stili che sono di matrice cristiana per non dire poi cattolica però questo è un altro terreno di ragionamento era chiarissimo era chiarissimo anche prima comunque l'hai applicitato va benissimo no io avrei delle cose da dire ma non dobbiamo fare una cosa o due casomai ci resta un minuto dopo te le dico lascerei a Filippo anche una replica Filippo di Stefano che entrambi sollevano dei temi molto molto interessanti e a Francesco in particolare quello dell'individualità e della singolarità dunque io le ho usate nel mio discorso queste due categorie l'una opposta all'altra il singolare è naturalmente il curioso che cosa singolare che è questa ma è anche solo è colui che resta solo e resta singolare singolo singolarizzato e a questo mi sembrava utile invece opporre un'idea di individualità che nel nostro lessico quotidiano può altresì rimandare all'individuo modello quindi l'individuo atomizzato io invece la uso però in senso spinosista spinosiano in spinosia l'individuo è sempre un essere plurale è un individuo di individui un individuo formato da molti individui dunque è già nella sua propria essenza qualcosa di multiplo di plurale di antisingolare se se vogliamo il che apre a due dimensioni interessanti che sono beh in spinosia stesso quella di di un individuo anticartesiano spinosa nello sviluppare questo suo individuo di individui si oppone a cartesio il cui soggetto è un soggetto in cui la mente domina e il corpo patisce la mente domina e il corpo e ecco spinosa rovescia questo dunque francesco non tanto come se ho capito bene dicevi te per rivendicare una animalità mi sembra che hai usato questa categoria ma piuttosto per rivendicare tutta la sfera dell'affettivo e degli affetti contro Descartes di nuovo c'è una positività degli affetti in spinosa e un parallelismo di mente e corpo per cui non è che quando l'una patisce l'altra esisce e viceversa ma la mente e il corpo attraverso gli affetti e la ragione possono solo o agire o patire insieme sullo stesso livello dunque questo per quanto riguarda spinosa per quanto riguarda noi invece la dimensione politica il mio individuo che non è più singolare era la dimensione dell'essere insieme dell'essere plurale e in questo senso si chiarisce anche se no non si chiarisce ma perché non ho avuto il tempo di parlarne nella locandina io avevo indicato in bibliografia un vecchio romanzo di Theodor Sturgeon che si chiamava Modern Human più che umano che è un bel racconto di fantascienza completamente spinosiano completamente spinosista in cui praticamente c'è una serie ci sono una serie di individui deficienti ognuno ha dei deficit ha delle deficienze ma che pervengono agendo insieme e coordinando e mischiando i loro corpi e le loro menti a formare un individuo superiore superiore e capace di cose incredibili prefigurando questa è la tesi implicita nel racconto di Sturgeon prefigurando un nuovo stadio dell'evoluzione in cui si passa appunto a un individuo multiplo e quindi ecco il mio individuo in quali direzioni andava e dunque per venire alle sollecitazioni di Stefano sull'interno e l'esterno rispetto alla città non saprei tanto come declinarli in ogni caso non avrei il tempo di farlo però si potrebbe effettivamente sullo sfondo pensare alla dinamica delle migrazioni contemporanee del migrante e del cittadino io non lo farò qui voglio però invece dire delle cose sui riferimenti cinematografici ti ho visto molto ferrato sul cinema e ti ringrazio le tue sollecitazioni hai richiamato il vampiro lo zombie scusa a cui io associavo il vampiro per convocare un'altra figura che sulla questione dell'esterno interno del rapporto fra esterno interno o come il mostro si convoca all'interno è altrettanto interessante secondo me che appunto queste due figure di cui parlavo prima cioè lo zombie e il vampiro entrambe sono figure del contagio il vampiro contagia e lo zombie contagia ma ce n'è una che appunto altrettanto interessante che è la cosa the thing la cosa la cosa nella letteratura fantascientifica degli anni del dopoguerra guerra e dopoguerra era un mostro particolare che non aveva forma era un mostro che riusciva a prendere a carpire a impadronirsi della forma dell'altro era proprio questo che lo rendeva più non solo aggressivo ma pericoloso perché era impossibile distinguerlo dall'altro se ci pensate il vampiro più o meno lo zombie senz'altro si distinguono molto chiaramente per una forma the thing invece era quella cosa che diventava l'altro e in questo modo ci minacciava diveniva per riprendere i temi e i testi di Ubaldo diveniva un vero e proprio simulacro declinato da Deleuze ora per venire proprio al contemporaneo poi mi fermo qui e al covid che evocava che evocava Jacopo prima se ci pensate nel momento iniziale della crisi di questa pandemia una delle delle sollecitazioni più temibili e pericolose non era tanto la carica aggressiva di questo virus ma che questo virus proprio come the thing come la cosa si presentava a noi attraverso il paziente asintomatico l'asintomatico chi era? era il mio vicino il mio amico il mio compagno a cui il virus non faceva niente ma che passando in me invece poteva uccidermi in qualche modo danneggiare e questo è veramente il simulacro il simulacro che stava in questa figura della cosa la cosa quindi sono tutti rapporti su come l'esterno e l'interno si declinano in questa letteratura mi fermo qui grazie tante anche a Filippo Iago vuoi aggiungere una parola perché c'è un minuto sì molto rapidamente è vera è una grande semplificazione di opporre come dire una certa figura anticapitalista come come dire Savia amorigerata il meglio dell'umanità della moralità ha invece una figura più mostruosa comunque difforme eccetera è una semplificazione tuttavia è vero che nella cultura visuale non in tutta ci sono per esempio anche gli esempi che prendeva Pablo nella sua opera che ha mostrato l'industrial workers of the world ci sono altre tendenze quelle sono all'inizio del novecento però c'è spesso un po' questa iconografia fondamentalmente cristiana cioè del popolo eletto che è qui per salvare il mondo contro il male i buoni contro cioè tutte queste dicotomie in realtà forse perché ritenendo di rivolgersi a appunto a una popolazione analfabeta che però conosceva la Bibbia e le sacre rappresentazioni queste eccessive semplificazioni sono sono parte integrante della comunicazione visiva dell'ovimento socialista insomma però ecco io sicuramente ho semplificato le cose questo è chiaro sono d'accordo con te bene comunque ne riparliamo non c'è fretta grazie a tutti io direi che sono 19 quindi non c'è più tempo per nulla molto cortesemente la professoressa Massa ha lasciato la sua mail in chat chi ha altri ha delle domande può mandarle a me le smistiamo volentieri grazie molti a Pablo per essere intervenuto a Filippo a Jacopo e a Ubaldo che sono rimasti ancora con noi e direi che possiamo rimandare a presto sì io ce l'ho sulla punta della lingua voglio discutere ancora ma non si può è tardi spero l'opposizione tra un possibile che è indeterminato e lasciamola dire Ubaldo e una saturazione che invece rimanda a un'esclusione dei possibili mi sembrava di vederla tra i due ma ne parliamo noi per fortuna ci vediamo e sentiamo spesso grazie a tutti grazie agli studenti meditate su quello che avete capito e non capito grazie agli studenti è vero anche da parte degli quelli che hanno fatto l'intervento perché penso che le tematiche e che vanno a casa pensando che Rosa Lucebo sia stato ucciso dagli spartachisti pensa da parte degli asini come me il compito a casa capito o non capito quattro punti ne parliamo la prossima volta arrivederci a tutti e a presto ciao ciao e voilà siete stati eroici qua in sala bravo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti